O vedi car crazy, glieli ti evitato spicci! Forse tutto bro Devo essere sincero, io non sono utopatico No flame, se vuoi mandarmi un millino magari stasera ci facciamo pure start condiviso se ti va Cioè non è che ho problemi gravi di utopatia 500 a testa o 1000 a testa, vediamo, ci riguardiamo come cazzo dico io Io non sono utopatico, un po' si, ma non trovo, non grave, non patologico Ci sono stati dei periodi ziocani in cui ho veramente fatto fuori il mio cazzo di colto Io paro un deal bello pesante, ho perso 5.500 euro ieri Ho giocato in maniera malata ragazzi Ok, io non sono utopatico Io collaboro anche con un sito, che è la mente di qua nome, ok? E non è licenza Io sempre, se devo interessare mi raccomando, punto stiamo divoluto, è il sito dove sto giocando adesso Se effettuate il primo deposito, ovviamente vi iscrivete con un nuovo account e effettuare il primo deposito Vi danno fino al 500% di bonus giocabile Dovete giocare ovviamente, poi ve lo trasforma in saldo penevabile C'ho un link, ok? Dove dico sempre, qui sto dando 100 euro ieri, ma guardate questo è il link E se volete, volete sempre andare qua Ma non è che ho obbligo nessuno, cioè a me, sto anche pensato studio di mandarla a cagare Perché comunque la fine, so che è una cosa che non si può fare C'ho questo sito che mi da un budget di 500 euro al giorno per giocare Cazzo, ma allora gli influencer sono veramente influencer, riescono a influenzare realmente le persone Assurdo che un bambino di 14 anni stia giocando al crazy time con dei soldi Perché adesso tutti questi ragazzini che dicono, oh mio dio, devo giocare al crazy time Sono duopatico, sono malato, ci nutro anche sopra E poi voi siete liberissimi da fare ciò che volete Io ho perso 1.500, di start, ho vintato, ho detto, vabbè carico altri 1.000 e mi gioco tutto il profit di ieri Per sicurezza però, eh, sì per sicurezza, capito? Secondo me una persona non è così tanto labile mentalmente da fare quello che faccio io solo perché lo faccio io Già mi è successo di giocare diverse volte off stream Io non penso che la gente sia così labile da non poter scegliere e capire da sola che cosa è giusto per se stessa Non vi lamentate del casino, non vi mettete a fare... è diventato il chiacro di Twitch, il chiacro, tutti fanno il casino A quel punto mi sento di dire che la colpa non è mia ma tua che non sai gestire la tua vita Questo tutto è una carattività, si chiama 888 Dubai C'ho avuto pure anche un problema vero, cioè non è che col gioco io pettinavo le bambole e mi mettevo a fare il personaggio C'ho avuto un cazzo di problema vero Oh, che cazzo di Wii No, io sto... forse è meglio del grabbrone Ci sta, non è male, no? Porca miseria Ok, però a me mi dà un salto per giocare, così io non ci vedo tutti la scambia e io ci gioco perché mi ha conformato questo giro C'è proprio podcast, sono tra pulcini che non hanno contenuto Dirò semplicemente che ridarò i soldi così almeno finisce adesso il drama Ok, ma roba, fai una stream senza che non era il titolo, no? La vedo bene, Gianluia Come è andato il riposo, Gianlu? Ah, ragazzi, sai come sto sveglio un po' prima Io sono trovato al servito di divisione dei problemi di carico del dovuto Sono tutto tenecidato non ha non avete mai parlato mai interagito dice anche di oscuro si dirà anche io ancora così cadere a live dove li ho asfaltati una cosa del genere e sa che te serve questo sì te lo teniamo caldo è legittimo anche risponda che te lo tengo caldo 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 una notte in ospedale mi ricordo ho fatto due notte in ospedale con un vecchio simpaticissimo a fianco io lo troppo bene ma di notte neanche rustava era anziano corello c'era una cosa particolare ma c'era tipo ma a te ti piacciono quelli in carne io sono enorme oramai questo è un po ingrassato durante la pandemia un banner con scritto dona per il coronavirus al codacons ovviamente se io leggo una cosa così mi lascia intendere che se tu doni soldi a loro facevano qualcosa di concreto sul coronavirus quindi ospedali giusto siamo d'accordo è pacifico questo in realtà tu donavi soldi a loro e il codacons non si occupa di sanità quindi non si capiva a che cazzo era quantomeno una pubblicità no c'era scritto così no come l'ha detto lei io ho detto che quantomeno è torbido che quantomeno è torbido ma come fedez ma come ragazzi è arrivato al tono diventato un po freddo per te ma tu stai a casa sul divano stai guardando netflix no no dobbiamo uscire la sofferenza non mi ferma non mi ferma totalità superiore non ci si arrende per così poco non ci si arrende questo non è un gioco questo non è uno scherzo bisogna chiedere fuori il meglio sempre 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 ah gabberone del titolo ma che stai a fa' ricordate che i squali stanno arrivare hello closhars e benvenuti in una nuova puntata del testosterone podcast te lo ricordi machoc te lo ricordi machamp pure c'era machop che era così poi machoc e poi machamp bella palle bella palle machapal come va? eh tutto bene king tutto bene tutto bene un cazzo palle uomo perché è successo un delirio accennato brevemente a mezzogiorno di fuoco stamattina mi sveglio con i messaggi di palle uomo che mi dice ma hai visto che cazzo è successo al gabbrone? e io rispondo al buon palle uomo no cosa è successo al gabbrone? eh me sa che l'hanno corcato vado nelle storie Instagram di Gabriele e leggo delle cose abbastanza sconcertanti vedremo anche un video dove c'è uno spezzone di live del gabbrone in IRL e anche un'altra parte però in una live da casa in cui racconta la dinamica ovviamente ho sentito Pietro Storti abbiamo sentito anche il gabbrone che ci ha mandato ulteriori informazioni Pietro Storti dovrebbe entrare a breve su Discord gli ho mandato il link l'ho sentito per sapere chiaramente la sua versione della storia che incredibilmente è totalmente diversa da quella del gabbrone chi l'avrebbe mai detto quindi andiamo con ordine andiamo con ordine e vediamo le storie del gabbronski te Marco tutto a posto? sì bello solito sì sì stavo cercando di trasformarmi in Kitano Morpheus ma non ci riesco mi va continuando a cascare sto occhiale bene bene allora grande Pietro Storti se possibile ridammi il telefono che mi hanno rubato i tuoi amici scimmie di merda quando mi picchiavano 5 contro 1 con te compreso che tiravi calci ecco la prima incongruenza nelle due storie Pietro Storti mi ha detto che lui non ha sfiorato il gabbrone un iphone 14 pro vi serve per mangiare bello king le bucchine che inviti in live hanno richiesto il cachet scherzo sono di un livello così basso che al massimo loro dovrebbero pagare per avere diritto di parola vabbè donne buttate in mezzo a cazzo Pietro Storti grande fratello era meglio quando andavi appresso alle minorenni tu ne hai seguito una sega no però ho ricevuto delle chiamate quindi non so ah e oltre ridarmi l'altro telefono vorrei anche 300 euro per riparare lo schermo di questo dal bangladino di via Padova grazie dai sorridi Pietro che tanto ti farei almeno un migliaio di follower da sta storia io almeno 10.000 euro altro che omiatol greve frecciatina alla denuncia dei uomini scimmie ah e aggiungerei pure infami pisciaturi perché in 5 contro 1 solo delle pisciazze come voi potevano farlo allora andiamo a vedere subito il contributo video il gabrone aggredito e derubato starai derubato pezzente questo è un fiore ho detto Luca sta rovinato ho detto sei un fiorellino magari fossimo rovinati tutti come Erduca regà ma voi che ne sapete della mia vita il gabrone aggredito e derubato da Pietro Storti i suoi amici lo denuncia i carabinieri ma chi è ma l'ho sentito l'ho invitato ma non so io ho mandato il link su discord non so un cazzo sta a dormire Pietro Storti lo faccio come Rubino guarda sta cosa è di mezzogiorno non è da adesso vabbè non è mezzogiorno troppe cose avevamo già fatto amico mio pronto? oh King ti ho mandato il link su instagram quando vuoi entra su discord attesa domande ok ok vabbè quando vuoi c'hai il link su instagram attesa domande scrivimi cioè rispondimi che ti sposto in stanza live dai a dopo King ciao 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 ok allora intanto prima di vedere il video Palle hai delle considerazioni da fare so che abbiamo anche il referto del gabrone sì anche quello è arrivato più o meno verso mezzogiorno insomma il buon gab che ora credo sia andato a dormire ha una prognosi di dieci giorni e te l'ho mandata forse me l'hai mandata a Marco quando vuoi Marco metti la schermo gentilmente e la diagnosi sono contusioni multiple e trauma facciale e trauma cranico non commotivo parlare dell'invasione diciamo i problemi maggiori erano sul naso pare un po' come eccolo qui e andiamo zoom a un ottimo schermo diciamo che ne abbiamo viste tante in questi anni però questi avvenimenti sono sempre molto rari ma soprattutto molto particolari perché uno si domanda sempre cos'è che può portare le persone a ritrovarsi in contesti del genere insomma sì soprattutto io per lì mi sono chiesto ma che vuol dire la gang di pietro storti cioè è una situazione da maranza non mi sarei sorpreso del gabrone picchiato in seguito a diciamo sue condizioni di ubriacatura molesta da un gruppo di maranzetti però da pietro storti hai capito io conoscendo entrambi rimango un po' stunnato perché diciamo non è il contesto adatto no a questi due personaggi il conto che me ne so è il trepperino deturno che mi dicono ne so rondo da sosa camici sua già là posso dire ci posso stare no ok è una cosa pure abbastanza scontata da parte di pietro storti e il gabrone insomma io mi immaginerei più una sfida di pianti o di spintoni capito la banda di storti scrive la chat però la questione è che ci sono ovviamente altre persone coinvolte certo certo c'è qualcuno di noto che tu sappia un paio dovrebbero essere noti sì tipo il buon sì ovviamente ovviamente io non ero non ero presente sempre dalla ricostruzione tipo il buon lo sai che c'è io vorrei sentire prima la versione io vorrei sentire prima la versione di pietro ma in realtà io l'ho sentita a telefono adesso ci confermerà mi ha detto che ci sono state le botte non da parte sua però mi ha detto lui no altre persone sì non so se questo paghi è un altro nome che era emerso adesso chiederemo a pietro però ovviamente la dinamica è diversa da come me l'ha descritta comunque vediamo un attimo il contributo video che bella Milano quando pietro vuole entrare mi scrive su instagram tanto lo buttiamo dentro sì in bell'ambientino devo dire ci siamo svegliati stamattina proprio freschi come una rosa soprattutto ho notato anche la sezione commenti sotto il video di lo spero molto molto interessante molto molto interessante come sempre forza violenza ragazzi mi raccomando rispondete alla violenza con altra violenza alimentate nei commenti ulteriore violenza avanti così ragazzi poi quando arriverà il giorno in cui vi troverete face to face per citare Rondo con il sottoscritto vedrete cosa significa ricevere una stilettata marra vi mena con le braccia concerte tipo il ballo no? succede tipo storti c'è qualcun altro che mena per te Davide in situazioni di pericolo tranquillo mamma mia che qua siamo io Chitano Rubino Dave siamo tutte persone specie Chitano perché Chitano è pericolosissimo però vedi in questo contesto c'è un sciago grazie Carlotta Dono Devin noi siamo in regia qua altro che in questo contesto un buon Thomas Fischietta avrebbe fatto il suo vero? sì basta violenza esatto sono dei criminali avrebbe fatto bene marra tu devi devi parlare con i ragazzi di anime night e devi farti insegnare l'aki dell'imperatore no? che cos'è? oppure roba da nerd sfiga roba di one piece roba di anime night appunto appunto sinonimi quindi roba di one piece esatto allora let's go cabrone aggredito e derubato da Pietro Storti e i suoi amici lo denuncia ai carabinieri carabinieri? oh gazzetta devo sport con 3100 spettatori ma non avevano levato l'embedding eh? no perché mi è caduto un attimo l'occhio qui eh? è morto oh blur oh manuxo che c'entra? non avevano levato perché marra non lo sa che hanno levato l'embedding cosa? ma non l'hanno levato l'embedding basta la licenza di dire cazzate e di rimanere impuniti basta ma pure il sor il sor manux sta embeddato andiamo avanti no sta un po' bustato no no io non dico più niente niente di grave niente di grave non dico più niente su queste persone se non riportare le loro affermazioni fasulle che creano disinformazione al lavoro che viene fatto giornalmente ma andiamo avanti che qua le questioni sono più gravi se embeddassero se embeddassero oh ma ci puoi trasporti quel mongolati di merda ti consiglio di lasciarmi stare scusami scusami Pietro vai tranquillo caro no zio levati del cazzo no no c'è Duzzo no ha scritto in chat quindi cosa vorresti dire comunque no no c'è Duzzo noi ti vogliamo bene c'è Duzzo tu sei l'unico tu sei l'unico sei l'unico che può che può embeddarsi quanto vuole ce l'aveva con un utente no 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 eh no lo so lo so lo so però non voglio sì però diciamolo c'è Duzzo è il nostro amico a voi allora io lo adoro c'è Duzzo io lo adoro c'è Duzzo e se ti servono fondi per embeddarti ancora di più puoi contare sulla sdrubalini puoi no 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 proprio come embedd Joe lui ed embedd Joe gli altri no gli altri no perché sono palesi lo possono fare no ma in realtà anche Gazzetta e questi lo possono fare sì però capito però non dicessero no no Gazzetta infatti comunque ok mi raccomando c'è Dù non ti arrabbiare che ti vuole un bene dell'anima siamo i tuoi unici amici del web ti aspettiamo pure qua al lupus a voi a voi a voi quando vuoi un C e Duzzo al lupus se vuoi venire scrivi ti consiglio di lasciarmi stare scusami scusami vogliamo analizzare questo inizio di video cioè nel senso il primissimo approccio è stato questo cabrone che vede più etrostorti sembra di sì esordisce in questa maniera sembra di sì perché fa un po' che monselvatico Pietro Storzi diciamo che è un saluto come posso dire che trasmette tutto tranne che positività allora indubbiamente Erga Bronski c'è molto di personale immagino c'è molto di personale anche cose che il pubblico non sa e niente insomma sì probabilmente sì due persone due persone che a quanto pare si stanno sul cazzo anche per motivi privati che si beccano per strada esatto c'è un prequel scusa vai vai di contesto c'è pure un prequel era in questa discoteca no? di Milano e nell'area fumatoria della discoteca per sua stessa missione era ubriaco molesto urlava le sue cazzate ed era stato allontanato dai buttafuori in maniera non so quanto gentile però vabbè non era stato menato questo questo mi sembra cioè non hai segni addosso almeno vabbè ancora no però era stato cacciato dalla discoteca ok ti consiglio di lasciarmi stare ti consiglio di lasciarmi stare scusami scusami Pietro vai tranquillo caro no zio con le voci del cazzo stai mer... coi giorni handicappati un po' come si può dire modificato hanno cercato il gabbrone lo so e mi dispiace Pietro Storti storto anche troppo dovrebbe entrare a breve Pietro Storti io Pietro Storti mi stanno picchiando ma che Joker ma che Joker dopo che lo picchiano sono in live ve lo dico subito e dopo e dopo e dopo si c'è un casino dopo dopo si c'è un casino sei tu che sei venuto a fare tutto sei un c***o brutto coglione vai a fare il mongolo con la figa merda umana eccomi un minuto prima è stato sì non so se l'aveva detto Palle è stato menato anche da un buttafuori questo me l'ha detto anche Pietro Storti se non sbaglio quella parte non l'ho vista ah ciao ciao bella ma il gabbrone ti ha confermato la cosa del buttafuori però vero? sì 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 tu hai detto che è stato allontanato non ricorda quanto in malo modo perché ovviamente se stava alterato stava alterato ok però non c'è graffi dopo c'è una cioè se vede nel video che sta molto meglio in quel punto il pestaggio non è del buttafuori il pestaggio evidente dalle foto non è del buttafuori ma quando è avvenuto mentre c'erano le risate quando è avvenuto il pestaggio Palle da parte della gang poi si stoppa la live dopo dopo quel pezzo sì però continuiamo col video perché c'è il punto dove lui corre è finito in realtà in ered sì ora c'è la parte per quello chiedo perché siamo passati brutalmente con un taglio alla parte dove lui sta già a casa quindi post aggressione manca un pezzo oppure questo qua è quello che abbiamo online allora io alcune cose le vorrei chiedere solo dopo aver sentito la versione di va bene aspettiamo Pietro facciamo le domande a lui dai ho già capito non vorrei dare assist no 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 ho capito perfettamente coglione vai a fare il mongolo con la figa merda umana qua l'avevano già menato l'abbiamo appena chiesto no l'hanno solo rincorso è dato qualche calcio perché è proprio la cosa più importante anche se sentono tipo dei cioè se vede nero e se sente con lui sotto e poi corre quindi non non si capisce molto se stoppa la live lì avviene il pestaggio perché non c'è stato se vede pure la faccia esatto vedi il frame della faccia se vede che il viso non è tumefatto come appare poi il live adesso al racconto del gabrone poi lui si nascondeva in un vicolo e lì lo pensava quindi è dopo esatto eccomi comunque Pietro Storti con i suoi amici magrebbini criminali del cazzo mi ha fregato un Samsung S23 e un iPhone 14 grande Pietro Storti grande so che il testosterone fa due sub in croce perché siete degli incapaci di merda però fregarmi i telefoni sarebbe un po' grave sei un cazzo di criminale di merda Pietro Storti potete clippare potete clippare e mettere su TikTok Pietro Storti questa è un'altra componente chiedendo a Pietro poi ce lo confermerà mi ha detto sul furto invece noi non c'entriamo un cazzo da quello che mi ha detto è stato rapinato da altre persone non da noi delle persone che stavano lì dei Maranza che stavano lì ok non ne ho idea ragazzi è cascato il telefono scappando però gli hanno menato questo sì non Pietro Storti direttamente non lo ha messo a me ma mi ha detto sì c'è stato il pestaggio ma motivazione che dirà certo c'è un ma c'è sempre un ma c'è un ma mi sarei stupito se non ci fosse stato un iphone 14 e un cazzo di samsung s23 con i suoi amici magrebbini schifosi di merda criminali del cazzo ok telefono rotto telefono rotto tre telefoni mi ha distrutto tre telefoni mi ha distrutto questo uomo di merda domani si denuncia sì porco Dio sto uomo di merda schifoso del cazzo Pietro Storti grande eh grande è tutto ripreso stasera non preoccuparti è tutto ripreso uomo di merda è tutto ripreso Ance Ance Media Ance Media Ance Media Ance Media Ance Media come cazzo fate a vedere un cugione dai metri storti eh per chi non lo sapesse per chi non lo sapesse è il network stanno lo stesso network sì infatti la sedia è di Ance Media il gabrone sì ex scusate è giusto ex ex del gabrone ex network del gabrone vedi però a poltrona gli è rimasta quella che svanisce gli la levano vengono a prendere a casa quellino sonego capito viene lui personalmente viene l'inno sonego in persona si richiede i vani se fa qualcosa che non va bene esce dalla bara proprio quando finisce la collaborazione è morto il fantasma di l'inno sonego viene a reclamare i divani del fantasma eh cyber rage cyber rage cyber rage il capoccia di Anc il CEO cazzo cyber rage grande non pensavo che promuovessi promuovessi gli aggressori gli aggressori promuovi Pietro Storti che mi aggredito stasera allora un'integrazione sul pre mi hanno mandato una clip della live di Gabrone su l'aggressione del buttafuori che gli tira una sberla da dietro sono 38 secondi io non ho sentito l'audio perché sono in live ok si vede sta persona che lo colpisce da dietro e mi dicono ah ecco il Gabrone picchiato duramente la sberla del bodyguard ok aspetta che me lo giro sui link si chiama il Gabrone picchiato duramente se non sbaglio ma è lo stesso? si si lo apro io lo apro io ho levato le acque yes non lo so guarda te la mando su whatsapp mandamela su whatsapp così che le confronto eventualmente comunque finiamo questo prima manore impiuto di botte manore impiuto di calci stavo a terra stavo a terra se in difeso manore impiuto di calci quelle merde umane schifose scimmie di merda che stavano con Pietro Storti quelle scimmie merdose schifose del cazzo porco dio Pietro Storti fai schifo al cazzo porco dio sto a bordo mister Marra oh Pietro Storti eh Pietro Storti Pietro Storti porco dio amici di merda ma grebbine del cazzo di Pietro Storti no perché te lo stavo a dire è che un appello no tipo il giudice di Twitch con la pure Pietro Storti vabbè ho capito nuovo nome del gruppo facebook testosterone gruppo gli amici di Pietro Storti sì cioè mo che cazzo mo veramente è così un appello ti ha chiamato come un arcangelo insomma guarda come sta si ne prego guarda la fa sta tutto in luciferito porca droia sì madonna un magistrato davide che dicerbero vabbè tipo la magistratura di Twitch capito che ti ha chiudo a i magistrati sì amici di merda ma grebbine del cazzo di Pietro Storti porco dio che tra le merda umane delle merda umane voglio il mio cazzo di Samsung S23 comunque l'hanno rovinato per davvero porca droia cioè a parte che abbiamo letto prima non so se hai sentito rovinato in toto una diagnosi che giustamente si è fatto far pronto soccorso ma comunque il naso sfondato tutto qua tagliato sulle mani tre telefoni rotti di cui due dispersi porca droia cazzo gli iphone 14 merda umane perché sennò vi denuncio domani porco dio dalle carabinieri vi denuncio tutti quanti merda umane del cazzo porco dio merda umane Pietro Storti sei una merda umana sei una cazzo di merda umana non è che devi chiamare gli amici marocchini o cose di così adesso si chiama i carabinieri ci mancherebbe altro chiamo questo devi fare non devi dire ascolta chiamo i carabinieri ci mancherebbe altro chiamo i carabinieri mi faccio ridare tutto quanto ci mancherebbe altro il problema era che l'ha chiamato magrebini era che si è attaccato a questa cosa no vabbè singolare perché si vede che Pietro Storti ci tiene comunque alla rappresentazione culturale si lui fa sempre ma lui è sempre battuto se non sbaglio è stato il firmatore di Blacks Live Matter Italia ah vedi ok blacks si buonasera buonasera allora ho ricevuto un'aggressione da dei ragazzi da dei ragazzi in corso come certo lo devo dettare una cazzo di merda schifosa in cui ci stanno le cazzo di scimmie in giro per romperci coglioni e basta è una città di merda una giungla schifosa uno ah vedi mi ricordavo bene allora era con marty luther king che infatti quando si sono beccati sul parco Pietro Storti gli ha fatto bello king così capito bello bello da lì è nato grazie cilinguito è assurdo che si sta a lamentare 118 delle condizioni della città non è ovviamente lucido è partito un po' per la tangente sta ubriachissimo e scosso ovviamente c'è tipo una condizione non sana mi sembra abbastanza evidente ma in generale dici nella vita proprio tutti i giorni ah si si c'è il gabbrone sta in un periodo dove veramente sta andando tutto male quello si è vero infatti stamattina parlavo avrà anche un cumulo ma se percepisce già dal primo frame cioè se tu vai all'inizio del video dove c'è la primissima interazione già si capisce il mood generale e simili mood e simili mood e poi vanno come si può dire a tracollare come si dice tracollare nella merda più totale ma anche perché aveva già diciamo avuto la situazione che butta fuori quindi stava alterato situazione che butta fuori momento Pietro Storti botte furto cioè di tutto e stamattina parlavo infatti con una persona diciamo proprio questo c'è il gabrone decazzate ne ha fatte tante e ne continua a fa però porca troia è uno dei pochi che paga con conseguenze triplicate le cose che fa cioè tipo rompi i coglioni sei molesto t'accogli t'accogli da ubriaca le persone ovviamente è una roba condannabile però capito ricevi botte calci in faccia telefoni rubati mi sembra un po' tipo il cane randaggio quello bistrattato da tutto il paese lo prendono a bastonate solo perché si può capito perché non è di nessuno lui mi sembra proprio un orfano con Matteo Sabba si sbaglia affidata a lui boom 26.000 quanti cazzo erano su Twitch fai casino permabann uno dei pochi permabannati in Italia insieme a Sdrumox cioè veramente che era Omietol che diceva cazzato Omietol querelato da Omietol cioè veramente ne fa tante dei cazzate ma porca troia è uno di quelli che paga proprio tutto sembra tipo uno con la nuvoletta sopra da cartone animato che per alcune cose uno potrebbe dire vittima di se stesso sì anche sicuramente no no però sono d'accordo con la tua analisi sembra proprio che ma anche troppo la nuvoletta fino a una certa perché se io adesso iniziassi a fare un tenore di vita di un certo tipo contenuti online di un certo tipo comportamenti di un certo tipo e poi man mano mi si manifestano tutte cose negative ok che hai sbagliato di te la sei cercata però diciamo che non è neanche di aiuto il suo comportamento da qua da quando sta sul web infatti ho la specificata non è che dici oh il power di turno gli capitano tutte disgrazie e cosa no assolutamente come mai perché uno non se le cerca a me a me non piace la frase te la sei cercata è una frase che non uso mai ma in questo caso almeno un 1% è lievemente azzeccata sì sì no ma infatti io la prima cosa che ho detto è non che sia diciamo un qualcosa di non molesto ad esempio in questo caso quello che ha fatto o i mille errori che abbiamo già menzionato in trasmissione ripeto ogni settimana fa qualche cappellato quello che dico io è uno dei pochi che paga spesso più del danno che già è tale che che va diciamo a fare ad altre persone questo perché io dico c'erano tante persone che creano un sacco di problemi fanno un sacco di cose lui tutte le volte ha pagato e tanto questo intendo io dicevi Palle no l'unica cosa che però dobbiamo ribadire e chiarire è che tu puoi essere molesto a merda insultare dire peggio cazzate però capiamo anche che non è un pagamento il fatto che ti menano essere menato è un'ingiustizia è un danno ingiusto che subisci ma è quello che infatti ho detto pure in relazione ai commenti là sotto la clip nel senso che per questo dicevo crea un problema sì cioè sei una persona che ha rotto il cazzo hai butta fuori in maniera molesta eri ubriaco riprendevi persone senza alcun senso cioè ti sei accollato l'hai insultato cioè non è che è arrivato lì con le ali d'angelo però la sproporzione sta proprio in questo cioè nel fatto che la risposta che ricevi è da pazzi cioè ovviamente questo nessuno lo mette in dubbio se invece che ne so l'avesse querelato Pietro Storti come ha fatto Omieto tra l'altro è legittimo quello in ogni caso allo stesso modo ci tengo a dire perché ho dato ovviamente uno sguardo anche ai commenti sotto il profilo di Storti e di qualcun altro eppure lì cioè occhio cioè rimaniamo un attimo umani perché ho letto pure delle bestialità infinite che nei commenti? sì vabbè la solita forconeria aria tira nei commenti aria di devi sta attento quando esci di casa occhio qui occhio là ah tipo minacce molto piacevole e comunque ti ho mandato un altro link appena sopra giù sì sì l'ho appena inoltrato nei link finiamo questo la violenza porta violenza ragazzi cioè se se diventasse noto che io ho picchiato qualcuno magari altrettanta gente gli viene un po' lo schilipizzo di picchiare me cioè tu hai picchiato uno quindi è come se dicessi implicitamente che è fair game insomma che te si può menare se tu lo fai qualcun altro molte scimmie ragionano così buona fai quindi no ma io sarei anche d'accordo cioè se c'è una persona che tu dici Marco Chitano è stato scoperto che ha menato dai Gianluca stai a di sto descrivendo come funziona il mondo testa di cazzo esci di casa così funziona il mondo purtroppo da parte dei troglutiti che che magari stanno anche qui in questa cazzo di chat visto che siamo un po' di più e quindi devo leggere la merda la violenza porta violenza taci e impara a vivere si ma poi ti sei contraddetto una frase dopo cioè se la violenza cioè hai detto che la violenza porta violenza no vabbè non me l'hai spiegata a te allora che cazzo dove è la contraddizione che poi hai detto che non è come posso dire ma mi sono scordato cioè il fatto che è sbagliato che se uno porta violenza gli venga in qualche modo ripetata violenza addosso ritornata ma la violenza potrebbe essere è ovvio che sia sbagliato però non è che è sbagliato se mo' Marco Chitano impazzisce e va a menà tutti verrà usata della violenza per fermarlo per forza no ma anche questa è la frase la violenza anche la vendetta no vabbè ma vendetta da parte delle persone che magari il gabrone non l'hanno neanche mai visto ma mi è venuto questo spunto perché stavano citando i commenti che sono arrivati a Pietro no? nel senso sta attento a uscire casa quello io intendo per violenza che porta violenza cioè poi magari non agiscono ma per lo scenario proprio di internet che riflette anche della mentalità delle persone come sono nella vita essendoci molte scimmie dico che la violenza porta violenza quindi quando purtroppo capitano queste cose c'è rischio che finiamo in una catena di eventi che accentuano poi la violenza oh siamo d'accordo non sto dicendo che è giusto non sto dicendo che è normale sto semplicemente dicendo che esiste sta roba ed è una dinamica pericolosa sono stato chiaro mo? non mi pare che sto dicendo che è giusto che deve essere così è una dinamica reale sto scrivendo la realtà secondo me non è che sto ad in questa cosa di legittima difesa cioè nel senso se ti arriva una violenza forte l'unico modo che hai per difenderti è o schivarla o tentare di counterarla comunque con una forza io parlo più di questa storia che potrebbe evolversi in altre situazioni gente che mo sta di a pietro sta attenta a uscire di casa è che la violenza porta violenza penso che sia pure una frase abbastanza scontata io la vedo così guarda come in un videogioco ci stanno tutti gli NPC che sono trasparenti se mo io meno Davide do un pugno in faccia a Davide in diretta divento rosso divento uno che va fermato capito uno è un violento capito io non so io sono trasparente c'è pensa Chitano Pietro Storti poi è diventato rosso mi dispiace eh capito io sto tranquillo quindi per farmi ritornare trasparente serve comunque una dell'ordine mi arrestano comunque è una forma di violenza intendo mi fermano l'esempio che facciamo prima di Omiatol proprio perché ha ricevuto delle provocazioni Pietro Storti cioè il gabrone è imboccato sto coglione di Pietro Storti si è messo là molesto ubriaco no Pietro Storti in quel momento aveva degli strumenti esempio Omiatol ha querelato il gabrone perché il gabrone aveva detto tipo Omiatol te vai a fare dei coca insieme mi ricordo a chi a chi era alla Cerenza una roba del genere ok per qualcuno potrebbe essere una roba va bene una battuta non lo querelo ok lui ha deciso invece di avvalersi di uno strumento in suo possesso perché evidentemente era una cosa lesiva e quello è però consentito perché lì c'è una giustizia per l'appunto a differenza dei vari fischietto di turno e di chi si fa giustizia in questo modo barbaro c'è una giustizia con quantomeno dei gradi di giudizio gente che insomma ha studiato delle norme no poi ovviamente come abbiamo sempre detto il tribunale non è la giustizia vera dell'essere umano ma è un compromesso ok con tanti difetti ma forse uno dei pochi accettabili un po' come la democrazia e legittimamente uno può dire guarda secondo me è esagerato secondo me è fatto bene e c'è una valutazione qua c'è un'ovvia provocazione e c'è una risposta che è estremamente spropositata ed è il solito principio che abbiamo detto a buon cicalone la sua crew a fischietto a brumotti ecco secondo questa cosa questa metafora del rosso se posso elaborarla un pochetto tipo questi qua giustizieri vedono gli spacciatori come rossi e loro devono in qualche modo agire per renderli meno rossi per rendere meno grave quella persona e in questo caso se il gabbrone stava a romper cazzo stava a fare molesto probabilmente Pietro Storti e gli altri lo vedevano come un rosso da fermare uno che sta creando problemi ne so fastidio però è sbagliato ovviamente appunto che ognuno si prenda la briga di correggere tutti i rossi le cose che non vanno bene esatto per questo che serve comunque una sorta di sistema di ente i neri combattono i rossi si passa da una parte del torto nel senso che il fatto che ci può pure avere ragione ti ha dato fastidio ti ha insurtato ma se poi te lo rincorri gli emeni e quello scappa se ne va e te lo rincorri ancora di più alla fine lo continui a menare è per quello che la violenza chiama violenza poi diventano tutti rossi e pure amico l'altro poi se meno hanno tutti ma non è una legittima difesa da un attacco infatti secondo me perché poi qualcuno dice pure se uno viene là secondo me c'è anche diciamo una soglia tollerabile in cui tu Pietro Storti di turno puoi anche usare le mani nel senso se uno veramente in atteggiamento molesto ti insulta ti viene sotto lo puoi spostare ma pure con una certa diciamo potenza lo mandi a fanculo levati dal cazzo cabbro porca madonna ok però appunto colluttazione che non si è ben capita e ci spiegherà ok e poi qualora fosse vera la versione del gabbrone lo picchi in 5 quello che ha detto il gabbrone è calci sulla faccia da terra telefoni spaccati cioè è un po' diverso no? ci siamo almeno fino a qua? si si eh no ripeto ho letto da quello che si è capito da quello che si è capito cioè Pietro non ha alzato una mano però stava là e le persone gli hanno menato al gabbrone secondo sempre quello che si è capito dalla roba che abbiamo sentito stavano con Pietro cioè come settesimo esci che ne so con i Futurio i Futurio gli emena na uno e te stai là avrai comunque un minimo di responsabilità pure tu certo che c'ho responsabilità ma anche perché loro si muovono per difendere te specialmente se il tizio menato è arrivato offendendo te e non conoscendo i Futurio però poi loro gli hanno menato e tu stavi là cioè quindi la versione per come è ora ripeto che deve ancora entrare Pietro per quanto mi riguarda abbastanza chiara anzi sarei pure un vile si esatto poi il gabbrone nelle storie che stiamo mandando ora ha scritto lui il gabbrone ha scritto che Pietro gli ha tirato dei calci comunque nelle storie Pietro mi ha detto che no e il discorso del furto anche mi ha detto non c'è stato da parte nostra e si uno versus su non avrebbe ricevuto questa risposta del pubblico certo perché lì è più comunque non si dovrebbe rispondere che cazzo ne so prendi cazzotto in faccia spacchi i denti ammazzi c'è sempre un eccesso anche l'eccesso di legittima difesa al contrario di molti ma la legittima difesa è per un discorso diverso che non riguarda probabilmente questo però sarebbe stato già diverso no sai uno contro uno ok è comunque sbagliato rispondere con quella violenza però è completamente diverso comunque andiamo avanti vediamo e poi abbiamo anche i video dei buttafuori eh un sentimento che ti abbia mentito eh ragazzi io non lo so ci abbiamo qualche spezzone ma la verità e poi due versioni ma la gente dice sempre solo la verità due versioni chi la sa la verità che devo dire certo lo devo dettare una cazzo di merda schifosa in cui ci stanno le cazzo le cazzo di scimmie in giro per romperci coglioni e basta è una città di merda una giungla schifosa uno sono da solo ero da solo ero da solo da solo mi hanno aggredito ste merda umane no no che ci siano state delle botte è in dubbio questo beh certo non è che sei menato da solo non so quante persone fossero due tre quattro cinque non lo so erano tanti erano tanti erano tanti porca miseria c'è la clip c'è la clip c'è la clip mi hanno picchiato mi hanno tirato calci pugni e poi sono scappato perché sono dovuto scappare porca miseria perché se no mi ammazzavano mi ammazzavano lì sul bordo della strada porca miseria stai qua non ti prendono sul serio non ti prendono sul serio ma chi è che fa mani schifose Pietro Storti e uno su disco Gabriele arrivano i carabinieri arrivano che succede? tenete tutto a posto tutto a posto cose nostre cose nostre in arrivo scusa Marco se hai in secondo reaction apro gli altri video Palle hai qualche aggiunta da fare tu? no direi di vedere questi video poi io aspetterei sempre un video sullo spero adesso vediamo anche il video sullo spero io te ne ho mandati due uno è di Kik l'altro di YouTube Parkour Planet guarda un attimo cos'è il Gabriele dopo l'aggressione di Pietro i suoi amici il giorno sulla situazione ok vediamo un po' vediamo un po' che cazzo è successo qua non si sa Whatsapp web 34 minuti fa qualche pubblico ma forse l'abbiamo visto non so no no l'abbiamo visto l'ha caricato da poco ok allora apriamo i link Gabbrone picchiato duramente ok 9 minuti di clip no 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 Gabbrone aggredito dai buttafuori al The Club di Milano dura due minuti forse è questa e Gabbrone è stato prima aggredito da buttafuori vabbè alcune saranno ripetute immagino scusa quella di Kik che cos'è sempre l'aggressione ai buttafuori sì è solo quindi secondo me se metti l'ultima che ti ho mandato dovrebbe includerla ah scusa l'ultima che mi ha mandato che quale è questo è il mio whatsapp il Gabbrone è stato prima aggredito da The Buttafuori ok 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 perfetto Marple Planet chiudi whatsapp grazie mille per la sub ok ci siamo e l'ultima questa questa qua è stato prima aggredito da buttafuori let's go stavo ubriaco alterato molestissimo stavano a dir qualcosa sui soldi che cazzo eh sì non si regola comunque non si regola però che gli stavano a dir lo so però comunque non è che puoi tiltare così con gente a casa c'è sta che te buttino fuori porca puttana sì sì che ti allontanino dal locale picchiato in cinque non c'è nessuna giustificazione no 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 ma non c'entra col picchiato questo è il pre sì sì però beh il mood era questo comunque era aggressivo nervoso esatto anche stranamente un po' aggressivo rispetto al solito non so io io ho le tasse da pagare non sono mica un uomo che fa delle tasse ho le tasse da pagare porco dio io i soldi che faccio la metà li devo allo Stato porco dio Italia di merda fighi di un'invettiva generale contro l'Italia il sistema fiscale stiamo tutti messi così se tutti dovessimo reagire così magari il primo anno uno reagisce pure con sta rabbia dentro e poi interiorizzi poi interiorizzi e divieni uno scammato sereno qualcuno ha appena pagato l'F24 potete vedere la faccia del gabbro negli effetti esatto tuttora mi trasferisco fra un anno vado a Malta pezzi di merda fisco italiano succedemi il cazzo grande andiamo insieme va da Zeb89 che ti accoglie a braccia aperta guarda ci vedo insieme a fare irla al porto tipo con Zeb fronte del porto scusami stiamo stiamo con i miei ragazzi ti chiedo scusa ti chiedo scusa ti chiedo scusa ti do la testata va bene ok ti chiedo scusa la pausa 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 allora adesso rientriamo nel discorso di prima quindi voglio le orecchie belle aperte questo è il buttafuori presumo presumo di sì ok già questa è una minaccia verbale quindi questa persona se lavora qui adesso andatela a prendere e la sospendete dalla sua mansione perché il buttafuori non può fare questo può minacciare non ti può mettere le mani addosso ti può allontanare per sistemare diciamo la guida e ci sta ritarguirlo sarebbe giusto sì ma tipo secondo me stai scrivendo dei buttafuori di alto borgo non esistono sono tutti così buttafuori medio minacce mo te spacca la testa c'entra il buttafuori medio ti sfondo il cranio se non te stai io ho sentito di poco gente andiamo fuori se c'è il coraggio andiamo fuori al parcheggio d'ammasso il buttafuori il buttafuori medio ne ho conosciuto ne ho conosciuto parecchi personalmente la gente mi risponde se i walk dei gorilla che hanno questa cosa è certo perché gli piace un po' vorrebbero opprime se potessero ma il localaro sa questo è una cosa che tutti sanno io so che sono un gorilla gigantesco che ha rabbia ha i pugni nelle mani il localaro sa che quello è un gorilla che gli è utile e lo paga però spesso e volentieri queste cose accadono perché io ho assistito a centinaia di cose del genere certo il buttafuori di filosofo non funziona però ovviamente ma guarda che non è vero minimo detecenza non è vero sì perché il buttafuori l'autorità poi è diverso dal concerto di violenza poi il buttafuori principalmente come disincentivo per la gente che rompe i coglioni ha ovviamente il suo cuscio sei uno gigantesco ma è un gigante buono che cazzo fai arriva uno come il gabrone cioè lo stoppi così con dito anche il gigante buono secondo me ha imparato a dire te sfondo il crani o te spacco però io quello che voglio dire è che la gente non si deve cazzo permettere di dirmi walk perché sollevo questo problema che è banalissimo e chiunque sia entrato in quattro locali in vita sua lo sa è proprio quel problema che fa dire agli altri ma Davide ma tanto è così però è proprio perché è così e ormai ci passa come se ci entrano lì che ci esce l'altro è una cosa che diamo quasi per scontata sbagliata è difficile quasi parlare però è vero cioè il buttafuori non dovrebbe minacciare non dovrebbe incutere timore però appunto mi viene anche da pensare che si tratta di ambienti alcolemici adrenalinici ormonali poi mi sembra pure scontato che stiamo a descrivere delle cose che rientrano pienamente nell'illegalità nel senso non so cose consentite dal momento dal momento peraltro che uno sta lì con una telecamera e con un microfono tali persone dovrebbero pagare perché un conto come è stato stamattina di noi cose che sono successe che sono difficilmente provate in questi casi secondo me bisognerebbe un attimo far pagare le conseguenze ma sono tante le persone che sarebbero contente se dicono ah visto uno ha fatto casino è arrivato uno gli ha spaccato la testa ma non è giusto cioè ha sbagliato a fare casino ma bisogna spaccarlo a me questa roba mi fa cagare oltre che fare spavento alla gente gli piace avete rotto il cazzo con questa giustificazione della violenza porca troia ma la sapete quella del ladro di Milano c'è un ladro che ha rubato a dei rider e hanno fatto bene a bloccarlo a intervenire in tantissimi però praticamente io ho letto dei commenti di uno che dice si hanno fatto bene a intervenire c'è sto video che è pure bello con tutti questi rider che arrivano in bici però diceva io l'ho incontrato sto ladro stavo lì e ho dovuto tamponare le ferite perché gli hanno spaccato il cranio con le catene in trenta e la gente diceva che te te fanno pena i ladri io stavo lì gli ho tamponato le ferite ho chiamato l'ambulanza hanno esagerato uno ha commentato se è vero e la gente lo insultava perché ha aiutato un ladro ma poi è la cosa più stupida del mondo cristo santo ce l'hanno raccontato tutti nella storia dell'uomo un giorno verranno a prendere te il giorno che tu imbecille verrai picchiato ci sarà un abuso di potere nei tuoi confronti anche nell'errore come il gabrone anche nell'errore anche nell'errore poi a chi chiederai conto secondo me anche molti padri di famiglia preti se gli dessero l'opportunità di picchiare una persona senza conseguenze magari gli dicono questo è un ladro invasore la massacrerebbero ma è successo infatti in tantissime occasioni guarda il caso Cucchi queste dinamiche qui dove uno picchia e arrivano pure altri è proprio questo cioè che magari si inizia da una volontà di rettificare un problema cioè quello lì sta un po' esagerando ma poi ti prende l'appetito del male certo ti prende la banalità del male si chiama infatti è proprio quello esattamente quello è quello che infatti mobilita i regimi perché tu ti metti quell'uniforme e sai che puoi fare del male ad un'altra etnia perché c'hai un uniforme e altri che con te sposano quell'ideale è quello e molti purtroppo come raccontato in Arancia Meccanica anche nel romanzo molti sono violenti che utilizzano l'uniforme in questo caso non sono neanche forza dell'ordine per fingersi buoni per fingersi della parte del giusto ma per essere più violenti dei violenti che dovrebbero combattere è quello infatti il senso dell'Arancia Meccanica che Alex è il criminale i suoi amici più furbi o più fortunati vanno nelle forze dell'ordine e lo picchiano e gli mettono la testa nell'acqua quello è i drughi esatto e questo a me fa cagare la gente che proprio non riesce nello sforzo più idiota dell'empatia ma te l'hai capito per firme quello è il fatto ma te lo sai che Arancia Meccanica è un firme visto da gente si ovvio grazie a me si si di caminificare la violenza è un cazzo quello purtroppo ormai mi sono abituato prendono film contro la violenza per esaltare la violenza gli ultra si facci non hanno capito nulla e lo vedono si si come taxi driver capito il taxi driver per loro è una roba figa è un personaggio positivo Travis quelle scene dovrebbero disgustarti ma se si ha quello scavallamento in cui si diventa sadici con l'appetito per il male diventa un porno improvvisamente ok ti chiedo scusa un calcio in bocca va bene ti chiedo scusa ti chiedo scusa possiamo darci la mano scusa posso darci la mano hai dato una pizza dovete cacciare questa persona dovete cacciare questa persona che cazzo è The Club lo chiamo oggi pomeriggio lo chiamo oggi pomeriggio e chiedo le generalità di questa cazzo di persona più che altro in gabrone procederei sì minchia più prove di queste se sente la voce se sente la percossa se sente tutto se vede tutto non parlate c'è poco da fare ma era molesto non l'avevamo vista questa parte non so voi l'abbiamo aperto in diretta ma lo so perché già si capiva c'aveva una violenza verbale che non aveva senso in quel momento stava aspettando l'occasione giusta stava aspettando dell'occasione giusta e l'ha sfruttata comunque anche dopo delle scuse cioè il gabrone gli ha detto perdonami ti passo dalla mano ci tengo a dire quello potrebbe dire mi stava pià per culo però a me sembra spoiler non si è giustificato alza le mani mentre lavori è un aggravante il fatto che sia un buttafuori secondo la realtà non è che lo legittima sarebbe un aggravante perché sta lavorando come la vedo io non so tecnicamente come funzioni la legge italiana ma non credo che ci sia qualcosa di scritto sul perpetare violenza anche lì dove non c'è pericolo perché una persona che urla non è pericolosa spoiler va allontanata non va picchiata quindi non è una giustificazione è un aggravante lui dovrebbe essere un agente di sicurezza quindi dovrebbe mantenere la sicurezza circostante del luogo che gli è stato affidato per il suo lavoro in questo caso lui ha messo in pericolo un ragazzo che non correva minimamente il rischio di subire violenza in quel momento lui ha deciso che in quel momento il gabrone avrebbe avuto del dolore avrebbe avuto un pugno in faccia uno schiaffo in faccia anche se non c'era la minima il minimo abisaglio che in questo momento lui stesse in qualche modo facendo una cosa sbagliata violenta aggressiva contro nessuno anzi addirittura stava chiedendo scusa e ha chiesto di stringerti la mano quindi anche se nella tua mente primordiale l'hai interpretato come una presa in giro quello che hai fatto è da denuncia dovresti perdere il lavoro un segno di debolezza no una presa in giro comunque per quello l'ha visto secondo me anzi il lavoro non lo perderai perché probabilmente chi ti ha assunto è più scimmia di te però dovresti essere denunciato poi il lavoro non è neanche un generalizzare io ovviamente sono più anni che vivo all'estero dove stanno comunque costantemente col giubbetto anticoltellata trovi sia quello gigante sia quello che è grosso però studia giurisprudenza durante il giorno e fa il buttafuori la notte e io credo di aver mai visto pizze negli ultimi sei anni da parte di buttafuori anche con gente super molesta super aggressiva al massimo chiamano la polizia no ma infatti il mio discorso è proprio grazie il mio discorso è proprio perché non si deve accettare questa condotta apposta prima ho chiesto ma questo è un un lavoro parliamo di un professionista o parliamo di altro perché chi fa seriamente questo lavoro dovrebbe distanziarsi da questa merda in teoria in teoria che sporca la categoria in teoria perché la pratica ci racconta altro ho capito ma sicuramente come me è successo ci saranno come in tutte le cose tanti lavoratori per servizi d'ordine come questo che non hanno mai sfiorato nessuno tipo artizio su tiktok io so 60 anni che faccio il suo lavoro non ho mai toccato un capello a nessuno non mi è mai servito però insomma i direttivi mi impongono cioè quindi anzi se riesci a mantenere l'ordine in quel modo sei un cazzo di chad è quella la vera forza stai a fare bene il tuo lavoro quella è la forza spoiler e il butta fuori deve evitarle queste situazioni non deve né crearle né pre non è uno sfogatoio quello sta lì per allora non è una palestra quelle sono persone assunte per la sicurezza del cliente come potrebbe essere parte della sicurezza del cliente in pizzone in faccia dovrebbe essere una palestra possiamo andare avanti fino a domani questa cosa va demolita in tre miliardi di modi diversi argomentazioni diverse è inscusabile sotto ogni punto di vista non c'è una motivazione valida esatto esatto è facilissimo posso sottolineare che tra l'altro quando vi arriva il primo corpo quando vi dice ti posso dare la mano cioè capito la persona che sta dall'altro lato evidentemente è frustrata si sente preso per il culo capito è come kyborg che sorride capito certo certo grazie Lazio assolutamente scusa dichiaro scusa posso mandarci la mano qual è il motivo qual è il motivo no ragazzi però con tutto il bene posso rimanere un attimo qua dentro ragazzi voi siete però fuori di testa io vi denuncio però con tutto il bene grazie papero denunciali cosa ho fatto cosa ho fatto cosa ho fatto stavo qua con i miei amici non posso parlare con i miei amici qual è il problema cosa hai fatto niente ho parlato con i miei amici italiani di merda di qua ma tu stai scherzando sto scherzando no ehi neanche io sto scherzando con tutto il bene di sto mondo però non sta risultando nessuno non sta risultando con tutto il bene di questo mondo eh nessuno me stesso al massimo me stesso poi c'è sta pure mannarlo via sta crea disturbo da fastidio agli altri certo che lo devi manda via è ovvio merda umane merda umane merda umane breve l'ha inseguito è sempre quello guarda io mi faccio un attimo un giro oh io mi faccio un attimo un giro geni della chat stavo pure andando via stavo andando si vede pure ma si ma che cazzo è gli ha dato una crocca così alle spalle alle spalle ripreso poi merda umane merda umane merda umane oh mamma mia rega è uno schiaffone ma che cazzo è denunciali tutti Gab che ti devo dire merda umane merda umane merda umane ha buttato per terra oh dio santo pure una serata assurda perché è tutto un muto? se sarà disattivato l'audio dalla live Marco sta a correre cioè pesa molto di più questo credo sia il The Club 50 cents non sarebbe felice tutto porco di l'ammazzo ste merda umane porco di l'ammazzo ste merda umane le ammazzo ste merda umane le ammazzo le ammazzo ste merda umane schifose vediamo vediamo se vengono qua a rompermi i coglioni vediamo 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 eh si è non c'è niente dai vieni 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 venite guarda guarda che merda che piccola le persone che merda umane che merda umane rincorretemi i merda umane rincorretemi oh ma c'è per i trasforti quel mongolodi di merda qua si attacca la clip madonna ma che cazzo è ma che cazzo è ma pare tipo tenet non so scherzare guy ricci ma che cazzo de follia è cioè senza stacco in piano sequenza così si 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 è bellissimo questo è guy ricci cioè è vero cioè io ho detto vabbè sarà staccata alla live saranno stati punti diversi dalla serata attaccato aveva appena preso le botte e ci ha ripreso sopra le botte però vedete quello che vi dico cioè pure là era scosso era incazzato eh sì no ma quello che vi dico pure sul fatto incredibile della sfiga del Gabriele ovviamente è stato molesto stava romper cazzo stava urlato però corcato pure alle spalle da butta fuori finisce va romper cazzo a Pedro Storti che c'entrava un cazzo in quel contesto boh altre botte cioè ma che cazzo è Willy il coiote stavano là stavano sentì cioè l'hanno sentito che diceva ste merde umane che meno a gente riferito non a loro quindi magari potevano vabbè poi c'è la clip che abbiamo visto penso penso ci sia altro materiale ma andiamo avanti no no è la stessa no ma per curiosità anche per vedere sto piano sequenza perché era così agitato all'inizio quando arrivava là cioè si era proprio appena picchiato è vero è un film di Tarantino cioè una roba train spotting una cosa allucinante sì è vero si ricollega tutto la Pulp Fiction i pezzi pure sì merda umane rincorretemi merda umane rincorretemi oh ma si potrà storti quel mongolati di merda ti consiglio di lasciarmi stare oh ti consiglio di lasciarmi stare scusami scusami Pietro vai tranquillo caro no zio levati nel cazzo vediamo se sto averti no 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 è chiuso ancora apre vabbè 23.30 perché è a discoteca però penso apriranno un po' prima muoviamo nel pomeriggio tardo stai merda coglione handicappati hmm oh oh fu oh oh fu oh fu in mezzo agli amici di Pietro Storti gli amici di Pietro Storti mi fanno picchiando oh oh fu per una notte possiamo stemperà un attimo sempliamo un attimo tanto se le pavamo già visto però sorti comunque è un video chiamato ma detto sto registrando un video quindi sarà chissà che video è ho fatto un errore di comunicazione ho fatto un errore di comunicazione col pulloverino grigio si mette con la farita bianca struccato BPO il South Park I'm sorry I'm sorry quella roba là I'm sorry sorry davanti al camino tipo nudo qua tipo qua no ma non mai fatelo fatelo voi raga fate un bel montaggio divertente tipo la risata nervosa dopo ci sono un casino dopo dopo ci sono un casino ma sei tu che sei venuto a farci tutto brutto ma vedi l'ha rincorso questo è storti la voce storti lo hanno seguito Marco cioè nel senso lui si è allontanato e io sono andati dietro sì però dico l'ha rincorso questo era palese sì questo era palese già da prima perché si capisce no che l'hanno rincorso sì però che era pure storti non ero certo però no no ma è lui la voce era sua no ma vaffanculo ma è finita porca puttana rincorso poi ma Vabbè, vaffanculo Gli amici di PetroStorti mi fanno picchiando Quella con la risata che è la follia ormai Mi stanno a picchiare a tutti quelli che incontro A quel punto ti vive così veramente Dentro un film non è la realtà Diciamo l'alcol aiuta quindi sicuramente Tadì via bene, sennò che cazzo fai? Siamo in live, ve lo dico subito E dopo ci sei un casino Ma questo con sta voce febbica, palle uomo, è pachi? Non lo so Mi sembra lui, però non vorrei di cazzare La voce da cotta Dopo ci sei un casino Che cazzo dici Marco? Marco oggi sei impazzito Simo Ma che cazzo vorrei dire voce da cotta? Ah non è l'unico Ma l'hai detto così Ma perché te pure prima Marco stai zitto No, come l'hai detto prima dalla porta Non mi risulta che l'ho detto Ne ci sono proprio audio video di questa cosa Non credo Io non ho sentito niente però Marco Però bisogna Ma puoi tenere il punto Quando uno è così coatto No Ma è la cazza Arriviamo dopo Eh ho capito ma Eh ma non so se entra Storti Perché a sto punto Ce ne potremmo stare qua A fine sette Aspettare i cazzi per Storti Io non vorrei che Storti Volesse sentire prima i dettagli noti Però poi Ovvio ovvio Ma infatti le mie sono tutte domande Grazie 36 mesi Le mie sono domande? Io non so nulla Anch'io ho un sacco di domande Hai sentito Marco Stai zitto Io Grazie bioporcone Grazie bioporco Ragazzi Ma lui quando è che interrompe la live? Allora Cioè Di lì a poco Sì Ah beh Questi sono altri clip inutili C'è interrotto la live per essere menato Grazie Carmine Cioè veramente Tu hai raggiunto dei punti bassi Nella sua vita Nella sua esistenza C'è stato il momento in cui Hanno iniziato a streamare i tiktoker Che stavano fermi così con Lycos C'è stato il momento In cui Green Mod ha iniziato a fare delle live Solo fighe In cui solo ci si provava Ci si faceva battute sessuali Omniatol sbronzo Il cabrone che semenava Ma un punto basso Come noi Non era mai stato Cioè noi non siamo Facciamo solo Ci proviamo con le dio Facendo sempre le stesse quattro battute Nello stesso modo Si crea solo cringe Mettate le volte siamo Grazie Ciao Darwin Grazie per i cinque Grazie mille Momento di consapevolezza Lo schifo Iarzoomer Beh dai L'importante è capirlo Vabbè è una tattica di comunicazione Ah Mi è sfuggita Mi è sfuggita Che Marco? Mi è sfuggita la tattica di comunicazione Stai bene con questi occhiali Solo che si è rito Noi siamo il peggio Siamo il peggio del peggio Ragazzi Siamo i modificati 3.0 Siamo proprio la fashion Siamo noi Siamo noi Siamo i zoomer We are zoomer Siamo noi Identificatevi noi Iscrivetevi a nostra Lo facciamo tutti Siamo i grandi Grazie per il 44 Ho visto con line E ho scritto Guarda fammi sapere Se vuoi entrare Per dire la tua versione Perché altrimenti chiudiamo C'è Rubino che ha scritto in chat Kitano Kitano Grazie 31 Grazie anche alla sub prima Andrea Piscio al volo Regà L'ha letto Quindi a breve sapremo Un attimo Beh pure per fare un attimo luce Il Gabrone invece È sparito dai radar Gabrone No Gabrone è stato Stamane In ospedale Ha fatto delle visite C'è un referto E l'ho sentito Prima di star live Ha detto che andava a dormire Ma in questi casi Chissà come funziona Nel senso Il referto comunque È una prova Da allegare A un'eventuale aggressione Ma qua essendoci state Più di un'aggressione La situazione è anche un po' Confusionaria Credo No Il referto Ovviamente lui Ha chiamato i carabinieri Infatti pure Ti dico la voce in calce È che comunque È lì a farsi repertare A fare quelle cose Perché C'è C'è una denuncia Di qualcosa Là In realtà Non ha avuto il tempo Però Non so se Scusate Io mi risento Non Non so se Ma sì perché è alto Come si vede Vai vai Ok Non so se L'avrebbe fatto Perché Comunque stava Stava bello alterato Però effettivamente Diciamo il momento In cui si allontana E butta fuori Là avrebbe già dovuto Chiamare qualcuno Per dire Guarda Mi hanno aggredito Però c'è subito Un altro scambio E comunque Nel referto Ripeto Sono una prognosi Di dieci giorni Deve fare alcuni esami Per quanto riguarda Il naso Che pare che sia Un po' Quello che dice È giusto Per la coscienza civile Ma poi Si sarebbe risparmiato Pure la seconda Aggressione Quindi insomma Comunque Magari se c'è qualcuno Più esperto Di pronti soccorsi Di me L'argomento di dimissione Rapporto Autorità giudiziaria Quindi Fatto sta Che comunque Non è che sta Era leggero Leggero Gli hanno fatto Un sacco di RX Rubino Sta sempre tutto Butta dentro pure Rubino Eccomi Ciao Rubino Bella Rubino Ciao da Che si dice È un bel casino Io sto a chiamare Un attimo Pietro Che vorrei sapere Se riesce a entrare Pure lui Su Discord Io 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 non dipendo Manco Gesù Cristo Vado a dipendere Gabriele Allora io Stava di una cosa Ma No Beh regà Mi sono un po' Mi sono un po' Cattivo Sempre quindi Mi sa che Ricomincio le Persecuzioni A Simone Santoro Quindi Volevo dire Ma io Raga Io gli ho scritto A Pietro Perché vi dico La verità Mi sono arrivati I DM Come ieri Mi sono arrivati In chat E mi fanno Ma che è successo La gotta Liga Praticamente Uno ha dato La prova Da una caposciata A un altro E poi oggi Mi sono arrivati I DM E mi fanno No Rubì Un po' Capì Macello Pietro Storti Io ho chiesto a Pietro Io ho provato a scrivere Però mi ha mai risposto E ne sono arrivati Mille No Mi sono arrivati Un bel po' Ddm Mille Chissi In quale Però mi sono arrivati Un bel po' Ddm Che ho scritto Sta cosa De Piero Io non capisco un cazzo Ho aperto l'occhi Mentre me mangiamo Un rigatone Ma non mi ha mai risposto Capito Che te voglio dire E poi quello che diceva Pietro Mi ha detto Si entro Cioè Sapello Basta che mi dici Non me va Si entro E otto Capito Noi stiamo live Tutto il giorno A fare maratone Come i streamer Che devono arrivare A fine mese A me non mi ha risposto Quindi non so Rubì Te tipo Con butta fuori Cioè Hai mai avuto Esperienze Particolari Io no Però qualche Sì ma il butta fuori Ma se te hai buttato fuori In butta fuori Una volta Io so Guardate A chi dà Io mo ti faccio crescere I capelli E porto un città Diciamo Allora E io vado Allora Io vorrei stare a dire No il butta fuori Quando interviene Quando rompi il cazzo Se tu non fai nulla E quel butta fuori Non interviene Se è successo Quello che è successo Allora il butta fuori In Italia Non può Non può menarti In te può mettere Le mani addosso Mentre magari In Spagna Sì In Spagna Te posso nominare Perché hanno dato Un destra A un amico mio Una volta In Spagna Perché facevo scemo Però se tu non fai niente Raga Io 200 miliardi di volte Sono andato in discoteca A me non mi è mai successo niente Perché io so uno Che non crea problemi E non rompe il cazzo Quindi Se te succede qualcosa Col butta fuori Raga C'è sempre un motivo Però non ti metti Le minigone Rubì Che cazzo Ti ha detto a te A me piace il kilt Vabbè non è mio Però c'è una bella Sì però appunto Noi stavamo a di prima Che In ogni caso Se il butta fuori Ti mette le mani addosso Tipo in questo caso Il gabbone Si stava Magari alzando un po' la voce Stava a fare Er matto Però comunque in quel momento Si era pure un po' Calmato Gli ha chiesto pure scusa E quello Gli ha dato comunque Una crocca in faccia E poi Settimena è denunciabile Esimo Poi addirittura L'ha rincorso Gli ha dato una crocca Alle spalle Cioè Mentre se ne stavano a via Uno non può rischia Che va in discoteca Se è un po' Alticcio Alza un po' la voce C'è il rischio Che qualcuno te corca Eppure autorizzato a farlo I butta fuori Non possono picchiarti Ti possono buttare fuori Ma non ti possono alzare le mani Tanto che Quest'estate Ho saputo Perché Non è poi successo un casino Che un butta fuori De una discoteca È stato denunciato Al ragazzo Che sta a romper cazzo Perché è ammenato Il butta fuori Non può Grazie Ivan Berbero Cinque sub Grazie King Grazie Berbe Il butta fuori Non può picchiarti Se no è denunciabile È perseguibile Da leggere Che poi pure te hai fatto La security no? No Vabbè ma io Ho fatto con Mr. Flame Siamo tutti imbriati Vabbè Ma non Ma era il 2017 Io ancora Facevo dei lavoretti Di Un certo tipo Io mi ricordo lo sai Eh Era il lontano 2016 Vabbè Comunque Rubino Dio Mi sono scordato Che mi è stunnato Questa cosa No ma c'ho pure Dei video C'ho pure dei video Belli E te li pettete No pubblicali Rubì Ma c'è una live intera Mi ricordi con Mr. Flame Ma c'eri pure te Ma c'era pure Simone Ma c'eri pure te No no Ti è te li pettete Allora C'era la sigla Ma c'ero tipo fermo così Mi devo mettere la telecamera Mi sono dovuto mettere in mezzo io Mi sono dovuto mettere in mezzo io Sennò Rubino In quanto security In quanto butta fuori Voleva perpetare violenza Ai danni di uno Vestito tutto in pinguinito Ma non ricordo Che succede? Che inquadratura è Rubì? Rubì Se vuoi faccio io L'abbiale E tu parti Ho vogliato delle camere Aspetta aspetta Sto con quella di riserva Le camera vi Panko Pop No frate Questa è quella di riserva Aspetta Metto quella seria Ok sta arrivando Storti Ragazzi ci siamo Ce l'abbiamo fatto Intanto prendiamo tempo Che Rubì non racconta Sto aneddoto Comunque sì Io immagino che Pankulo Avere l'istinto Di picchiare qualcuno È normale Poi è come agisci Che fa la differenza Tu Rubì volevi menare Uno Dipende io Allora io ho un problema Di rabbia Che lo sto risolvendo Con una persona C'ho rabbia Ma era tipo Sette anni fa Rubì era Sì no vabbè Ce l'ho sempre avuto Un po' di rabbia repressa Però no C'era sta situazione Che stavamo Una chiesa Quella al lato Faceva una festa Come si chiamava Era la chiesa Sconsagrata Che sta all'interno Dell'università Luiz Di Roma Dove c'era Gigi Doug Che suonava dal vivo E noi stavamo lì Diciamo Zona Dopo a console Barra entrata Dici quello che mi ha fumato Un faccio No No perché io stavo lì Così praticamente Stavo lì così E questo mi fa Senti scusa Ma io posso fumare qua Ho fatto No guarda Non puoi fumare E se metti a fumare Ho fatto caro Non puoi fumare qua Non te l'ho detto Già una volta E lui va Io faccio come cazzo Mi pare E mi ha fumato Un faccio De giuro Stavo lì Mi guardo Gianluca Mi guardo Mi guardo Gianluca Faccio Un pezzo De merda Poi E poi E poi E poi una dissolvenza Nasconde tutto Poi stavo una dissolvenza Perché Fate to black Sì Dissolvenza in nero Un'ora dopo Il giorno dopo In tutto questo Sono arrivati altri tre avvisi Di copyright Da parte De Sabba Insiste Di privacy Scusate Insiste Oggi ho finito Ma la cosa più divertente Sulla live In cui lui parla di anima Lui Che è venuto spontaneamente Lui A fare dichiarazione Su anima Manda Il reclamo per privacy Ma di cosa Imbecille Delle parole Che hai detto tu I documenti che mostra lui Ma privacy Ma l'ha già fatto Aspetta Ma l'aveva già fatto Lui diceva Fanno vedere i documenti Cioè nel senso Mettere il minutaggio Dove c'erano i documenti Che erano gli stessi Che aveva fatto Vedere lui in live Sì ma è una cosa Che è venuto lui Spontaneamente Ma che privacy c'è Scusami Ma non ha senso Ma poi Già quattro volte Che glielo rifiutano Basta A youtube pure Ma quando si sveglia Li sta mandando a cazzo Non ha niente senso È la settantesima Segnalazione illecita Oh Ma che cazzo Sta succede oggi Sono impazziti tutti Qui Ma come Sono lì È in stanza Pietro Ok Energie negative Davide Energie negative Portano energie negative È per quello Che bisognerebbe Evitare Proprio Dalla radice A strappare Dalle radice Certe cose Ciao Pietro Che poi germoglia La merda Ciao Pietro Ciao ciao a tutti Dicci un po' Che cazzo Avete combinato Posso già Spiegare? Vai 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 Allora parto dal principio Di questa narrazione Con ordine Nasce tutta una serata Al The Club In cui noi non eravamo Ancora entrati Nella discoteca Eravamo fuori Ad aspettare Ok Ad attendere di entrare E vediamo Il gabbrone Che si sta picchiando Violentemente Con i buttafuori Del The Club Io non so se lui Questa cosa L'ha riferita No abbiamo visto il video L'ospensione della sua live È stata aggressiva Si vede proprio Un'aggressione Che subisce Dai buttafuori Si Si buttafuori Lo picchiano Violentemente Tantissimo Fortissimo Gli fanno uscire Sangue dal naso E lui riprende tutto Urla Si incazza Fa per andarsene Poi mi vede Vedendomi Dice ok Ecco Il sangue ancora non c'era Io quando era vicino a noi Lo vedevo già Bello percorso Bello gonfio Quando è venuto vicino a me Lo vedevo già Col naso arrossato Non so se stava già Perdendo sangue Non c'era sangue Non c'era sangue Il fatto sta ragazzi Che i tipi delle club Lo hanno veramente Riempito di botte Cioè non sto scherzando Non avrei motivo Di dire una cosa inventata Che sono dei video Che lo testimoniano Avete visto? Perfetto Però è arrivato da voi Già tu m'hai fatto Tu m'hai fatto Il motivo ce l'hai Ma non per questo Significa che tu Lo stia facendo Non ho capito Il motivo ce lo avresti Ma questo non significa Che tu lo stia facendo Ok E E Arriva da noi Perché vede me Nasa Il content Dice ok Pietro Storti Li fermo L'ho già insultato mille volte Andiamo a rompergli il cazzo nuovo E comincia Quello spezzone Che penso abbiano visto Un po' tutti Quelli che sono interessati Alla questione In cui lui dice Ah c'è quel Parola con la M Di Pietro Storti Ok Questo l'hanno visto tutti E mi si avvicina Con fare Decisamente Infogliato E minaccioso Sicuramente non mi si avvicina Amichevolmente E per spotter Mi chiede Oh bro come va E gli dico Lasciami stare Non voglio stare nella tua diretta Lecito? Certo Direi di sì Fino a qua A questo punto Lui insiste E mi mette La mano in faccia Con questa Con questa espressione Mi mette la mano in faccia No? Molto minaccioso Mi mette la mano in faccia Io Prendo la distanza E lui va avanti E prima prova A mettermi la mano al collo Io mi sposto Mi prende per la testa Da qua dietro E cerca di trascinare L'universo al basso Non so per fare cosa Però cerca di trascinare L'universo al basso Sono tre gesti Che io Almeno Per la mia esperienza Chiamerei un'aggressione No? Mano in faccia Mano al collo Mano dietro la testa Per spingere verso il basso È un'aggressione Perfetto Io non reagisco comunque Non reagisco comunque Ci sono lì di fianco Delle persone che mi conoscono Che vedono la situazione E si mettono in mezzo Spintonandolo E facendogli volare il telefono E questa cosa si vede chiaramente Nel video Ok Perfetto A questo punto Lui non contento Di aver già aggredito me Cerca di aggredire Una di queste persone Una di queste persone Era un ragazzino Di 14 anni E lui gli mette le mani Al collo E lo spinge Ok Ma stava con voi Il ragazzino Il ragazzino era amico Di una persona che io conosco Era lì Non so a far cosa Io non lo conosco personalmente Questo ragazzino Però si è messo in mezzo Con coraggio Si è messo in mezzo Per allontanare Una persona che mi stava Effettivamente aggredendo A tutti gli effetti Bullizzando Chiamiamola come volete Cioè comunque Non mi stava certo Trattando bene Ecco Questo è il discorso Ma questo è un giro Di tipo 15 secondi Perché comunque Ci sta la clip Dove non si capisce bene Ma non è che duri troppo Per capire Non so a che punto Si interrompa la clip Il fatto sta che Dopo che hai volato il telefono È successa questa cosa Quanto è durato? Cioè Da quando lui ti ha detto Ciao Pietro Ha la colluttazione Sarà durato Non lo so Non so se Un tre minuti Tra lui che mi minaccia Lui che mi mette le mani addosso Gli amici che intervengono Qualche spintonamento Lui che cerca di aggredire Questo ragazzino E poi Arriva la parte Succosa Tra virgolette La reazione A quel punto Effettiva Dei miei amici Saranno tre minuti complessivi Quando l'hai deri in corso Sarebbe la reazione O era primo? No La reazione è stata Che a quel punto C'è stata una vera reazione Fisica Nei suoi confronti Che io non ho capito Perché Una colluttazione Non è che hai il drone Negli occhi Nel senso Questi qua hanno reagito Con spintoni Movimenti di mani Tentativi di colpirlo Io non ho capito bene La dinamica Noi abbiamo visto la grippola Il gabrone In seguito all'aggressione Subita dai buttafuori Si dirige C'è quel coglione Ai petrostorti L'amolesso Tutto ubriaco Non per cazzo Poi si vede Un delirio Il telefono Va a destra e a manca Poi il gabrone Si allontana Senza segni Evidenti in faccia Ancora Si allontana Dicendo che lo vogliono picchiare Mi vogliono picchiare Gli amici di Pietrostorti Se ne va Poi si sente la voce tua E una nuova E poi si stoppa la live Questo è quello che abbiamo visto noi No aspetta Perché Diciamo quella che lui chiama Aggressione Che è un tentativo di difesa Hai laggato un attimo Aspetta Aspetta che laghi Non ti sentiamo E' da un po' schiatti Eh così non lo sentiamo Pure a voi Cioè è proprio lui Senti Ecco adesso si Hai laggato un po' Mu si mu si Vai Scusate Dicevo Che quella che lui chiama Aggressione Che Io non ho capito bene Esattamente come è stata Ma la possiamo definire Una controaggressione Sì Avviene dopo che lui è tentato Di aggredire il 14enne Ok Si è sentito? Sì Sì È assurdo perché Ovviamente C'è il gabbrone A questo punto A questo punto A questo punto Poi lui prende A questo punto Lui prende E inizia a scappare Parlando di Inseguimento Folle Come se noi stessimo Cercando Con Delle Mase Baseball Per picchiarlo Quello che volevano fare Io volevo fare Era semplicemente Chiedergli di Rimuovere il video In cui vengo Bullizzato da lui Scusate se ho fatto Questa cosa Community di Internet Volevo che non ci fosse Un kick In cui lui mi Bullizza E mi mette le mani addosso Mi mette le mani in faccia Ok Mi seguite Sì Sì E che appunto Che non si vede nulla Di tutte queste cose Quindi ti dobbiamo Credere sulla parola Eh no Perché La parte dei buttafuori Si vede Anche a lui Crede sulla parola No Ci sono i video Ma nei video Non si vede Nei video Non si vede chiaramente Come avviene Questa colluttazione Tra lui E le persone Che mi conoscevano Eh però Sì Perché lo rincorrete Lui Per quanto ha sbagliato Se n'era andato E voi Lo rincorrete Per cercare la rissa Scusa un attimo Eh perché io volevo Che lui cancellasse il video Ti condividi lo schermo Tu lo vedi lo schermo Pietro Sì posso finire Di raccontare Va vai finisce Lo vediamo insieme Così ci spieghi La dinamica Capito Allora Lui scappa Lui scappa Dopo che io gli chiedo Ripetutamente Di cancellare il video Cosa che Penso di avere Il diritto di fare Ok Posso aver sbagliato Nell'averlo Inseguito Per farlo Non sapevo Come altro fare Non è che potevo Chiamarlo al telefono E dirgli Ciao fratello Puoi cancellare il video Cioè Nel senso Potevo soltanto Cercare di parlarci In quel momento Lui scappava Come un folle Urlando Mi vogliono picchiare Mi vogliono picchiare Alla Fabio Z Però vabbè Così è andata E A un certo punto Arriva la seconda Sua collutazione Con persone che Non c'entrano Niente con lui Lui non so se ha nominato Questa cosa nei video Però lui Nello scappare Scappare Da noi Si è scontrato Con due persone Nord africane Ok Con queste persone Ha subito Tre aggressioni Da tre gruppi diversi In un giro di 15 minuti In un giro di 15 minuti Tre gruppi diversi Di persone Quando uno è Obliaco E chissà fatto di cosa Che scappa Urla Grida Succedono queste cose Ha avuto una collutazione Terza collutazione Con questi ragazzi Nord africani Li ha minacciati Con un monopattino Prendendo un monopattino Da terra E puntandoglielo contro Testimonio Oculari Chi volete Chiamo adesso Dieci persone Tutti che vi racconteranno La stessa versione Ha preso il monopattino Gli l'ha puntato addosso Per difendersi Non lo so E questi Deve puntare il monopattino Che fai Che furtivo Scappi col monopattino Frate Deve puntare il monopattino Frate È finita È finita Questi qua Questi qua hanno iniziato A inseguirlo Però A inseguirlo veramente Cioè proprio Inseguirlo Correndo forte Forte Per prenderlo E l'hanno preso Mi seguite? Sì Sì Quando l'hanno preso Noi poi Alla fine Dopo un minuto buono Siamo riusciti a raggiungerlo Ha perso completamente di vista E lo abbiamo trovato Appiccicato al muro Ok Con questi qua Che lo tenevano La prima cosa L'unica cosa A cui mi interessa Che mi interessava Era chiedergli Di cancellare i video E lui giustamente Cioè tu vedi uno Che rispondeva Ma tu vedi uno Attaccato al muro Che conosci Corcato de botte Da gente A caso La prima preoccupazione È l'hiver video Vaporaccio ma aiutalo Come siamo arrivati noi Come siamo arrivati noi Questi qua hanno smesso Di tenerlo lì Ovviamente Perché siamo arrivati Comunque in 5 o 6 E poi si sono spostati Noi ci siamo messi In mezzo a parlare Pachi Sibillo L'altro ragazzo Che fa le live con noi Pacificamente Pacificamente ha detto Fra te A noi non interessa Nulla Di farti qualcosa Di male Vogliamo semplicemente Che tu cancelli Il video In cui bullizzi Pietro Ok A quel punto Lui è iniziato Con questo delirio Del telefono Dicendo Mi hanno rubato il telefono Mi avete preso il telefono Ridate il telefono Ma io Volevo cancellare il video Sì ma che fine ha fatto Il telefono Non ho capito E penso Perché lagga Questa versione Ce l'avranno i due africani Senza nome Stai laggando Guarda Non ti sentiamo Ti riesci ad andare In un punto In cui ti prendi meglio Ok Adesso dovrebbe andare Vai Ma no Più che altro La batteria Il problema Ok Dicevo Ragazzi Non so cosa dirvi Cioè Se mi sono inventato Questa cosa Allora nessuno Al mondo Nei video che usciranno Adesso Di testimonianza Di tutte le persone Nessuno saprà Di questi due africani Invece Tutti quanti hanno visto Questa cosa succedere Davanti ai loro occhi Quindi Non la nominata Anche noi ci stiamo Sbagliando A basarci solo Su quello che vediamo qua Perché è chiaro Che ci influenza Da una parte Rispetto Non si vede niente No no ma infatti Ripeto Per finire il discorso Per finire la narrazione Ma proprio in apertura La versione del gabrone È A Poi ho parlato con Pietro Ci racconterà B Chiaro Certo Però Palle C'ava una domanda Per finire la questione Non è finita Lui a questo punto Impazzito per aver perso I due telefoni Continuava a Chiederci di restituirli Io Che avevo come unico scopo Far cancellare il video Ma non gli avrei Ridato il telefono in mano Dicendogli Tieni Sblocca il telefono Cancella il video Se l'avessi avuto Non ce l'avevo Perché l'unica cosa Che gli chiedevamo È Trova il tuo telefono Sbloccalo E cancella per piacere Il vlog della live In cui mi Perculi Bullizzi Insulti Tutto quello che vuoi Comunque Però Se uno è in fio Della mignotta Se gli è più il telefono A me non mi serve Che cancella io più Spacca il telefono E ciao Metto da un mezzice Spugli Capito Ma no Perché i VOD Si caricano I VOD si caricano da soli Quindi non c'è Doveva farlo manualmente Ho una prima domanda Tu eri lucido Quando è successo questo Oppure Completamente lucido Completamente lucido Anzi Quindi dovresti ricordare bene Quello che è successo Assolutamente Io mi ricordo passo passo Tutto quello che è successo Possiamo vedere Purple Planet Sì ce l'abbiamo Ce l'abbiamo pronto Ultimo dettaglio Prima che rivediamo il video Ultimo dettaglio Così finisce proprio Tutta la narrazione Lui a quel punto Quando gli abbiamo chiesto Di cancellare il video Per l'ennesima volta Ha riprovato A venire faccia a faccia Muso duro con noi Cercando di colpirci nuovamente Per far capire Che il ragazzo Era completamente destabilizzato Violento E aggressivo Di nostri confronti Molto tanto Cioè cercava di mettere Le mani addosso Vorrei che questa cosa Prossi chiara Perché Spassa come se lui era Noi era in condizioni Veramente tremende Super aggressive E aggiungo una cosa però Cioè dopo che t'hanno menato In quel modo Cioè è una tale violenza Dentro Che la vuoi restituire Non mi sembra così Ma giustificare Cioè io posso anche capirlo Sì ma anche io lo capisco Perché Cioè è una cosa Con cui si può empatizzare Tranquillamente Cioè ti hanno appena Menato Sei nervoso Cioè tutto Quindi Cioè è plausibile Che fosse A me dispiaceva Che i buttafuori Del The Club Lo avessero appena percosso In quel modo Mi faceva schifo come scena Vedere un ragazzo Picchiato da di buttafuori Ovviamente Però se poi tu vieni Da me In prima persona Aggredire me Per sfogare la tua rabbia Io cosa devo fare Prendi i miei cazzotti in faccia Ti prego Anzi pure l'ho fatto I miei amici Non hanno fatto questa cosa Di lasciar fare Allora Pietro una cosa sola Adesso vediamo il video Intanto Secondo me Il fatto di Liquidare in questo modo Vabbè Volevamo solo fargli cancellare il video Per me è una È una cosa bestiale Perché In realtà In quel momento Era sul suolo pubblico Riprendendo Anche te Personaggio pubblico E sicuramente Il modo Per richiedere La cancellazione Di un video Non è quella Di andare lì In cinque persone Assolutamente Su questo sono completamente D'accordo Con un approccio Che io ignoro Perché ovviamente Non ero presente Prima cosa Seconda cosa È quello che ti ho detto Pure prima al telefono Mi viene da pensare Ma se Sei stato solo Soccombente Ok Cioè tu hai detto Volevo che Venisse cancellato Il video In cui ero stato Bullizzato Soccombente Perché Dovresti far cancellare il video A maggior ragione Utilizzabile Anche per denunciarlo Ma io non Cioè Non è Minimamente La mia intenzione Partecipare a questo Tipo di Giochi Cioè io volevo Semplicemente Non apparire In una dinamica Relativa al gabrone Relativa a queste cose Punto Perché facevi la figura De merda Ho capito Ma io non per la figura De merda Perché è una Sfera di contenuto Scusami È una sfera di contenuto A cui io non voglio Partecipare La sfera del Tanto non funziona così Nel senso Non è che si Esistono i reclami Per privacy A differenza di quelli Fasulli Che manda Matteo Zabba Avresti avuto Eventualmente diritto Per farlo Esistono gli avvocati Insomma vabbè Però al di là di quello Non so come funziona Io volevo solo Per cancellare il video Sì vabbè Senza contare Insomma fai il suo lavoro Da parecchio Sai che magari La clip comunque Già è stata fatta Essendo in diretta Però al di là di questo Dico io Cioè Lui sarebbe passato Come un coglione Se la storia fosse questa A me sembra Ed è quello che ti ho detto Pure in privato A me sembra che L'intento Fosse Cancella Perché c'è altro Perché abbiamo fatto Qualcosa di Non è così Perché non si vede niente Nei video Chiaramente Ma tu lo sapevi In quel momento Amore della mia vita Io so Ho visto il telefono volare Attenzione Eh no Ho visto il telefono volare Ma tu non sai Quello che è andato in diretta Magari hai visto Che ne so È successo Qualcosa Con i tuoi amici Che hanno fatto qualcosa Che non dovevano fare Evidentemente Hai detto Nel dubbio Cancelliamo il bod Se no andiamo nella merda Scusami un attimo Scusami un attimo Però è Completamente lecito Anche in una Ma io scusami Ti ho negato In questo momento Che i miei amici Abbiano avuto una reazione Violenta Quando lui poi La seconda volta Li ha aggrediti No non mi sembra Te lo sto dicendo Pubblicamente Cosa che non si sa No e sono contento Che tu lo dica Io ti sto dicendo Un'altra cosa Che l'intento Di far cancellare Quel video Secondo me Avevo un'altra motivazione Ma io non ho nessuna Sono stato Bullizzato da Gab Perché tu in realtà Facevi la figura Del signore lì Oh Cioè questa arriva Ti insulta In maniera molesta Non so Non mi sembra Ti mette le mani addosso E lui Lui l'ho sfigato Tu sei stato un king Posso Posso esprimermi Su questa cosa un attimo Vai Allora A parte che Nel senso Non c'è nessuna premura Da parte mia Nel difendere I miei amici Dall'avere avuto Una reazione Aggressiva Nei suoi confronti Zero Non ci sto provando Non sto provando A fare sembrare Che noi eravamo tipo Oddio E lui era tipo Lui dopo che ci ha aggredito La seconda volta Ma sto cazzo Che scusami Ha la seconda aggressione Io devo farmi aggredire Due volte Scusami Un amico mio Che si è messo in mezzo Per me Che viene aggredito A sua volta Reagisce Ed è normale E sicuramente Io non ho capito bene Cosa è successo Nella dinamica precisa Perché come si vede Nel video è molto confuso Però Sicuramente Non si è fatto del bene In questa seconda aggressione Che lui ha provato A fare i miei amici Io questa cosa Non sto provando A nasconderla E non ho mai neanche voluto Cancellare il video Per nascondere questa cosa Perché non la trovo Una cosa da cui nascondersi Difendersi da un'aggressione Non mi sembra Di dovermi difendere da questo La cosa che non vuoi La nasconde cosa? Il gabbrone che ti dice Quel coglione di storti? No Il gabbrone che crea Un contenuto Con me Come se io fossi parte Di questo suo contenuto Di questa sua tipologia Di contenuto In cui lui Bullizza Poi c'è la reazione Poi c'è la contrazione È una cosa di cui Non voglio far parte E infatti Perché ne sto facendo parte? Perché esiste quel video Cioè E non vogliamo Che esiste l'atto Sì Questa questione È una questione Tra colleghi Tra content creator E come ha detto Davide Pure prima Si può affrontare In mille modi diversi Cioè Non è che Non hai il numero Del gabbrone Ma comunque Lo puoi contattare Penso su Instagram Ci sono dei modi Per far fronte A questa problematica Specifica Cioè Non voglio apparire Nella tua live Dove addirittura Mi dici che sono un coglione È comprensibile Per carità Cioè scusami Ma se Se avessi partecipato A una sua live E a un certo punto Mi avesse insultato Ancora ancora Cioè lui è venuto A riprendermi forzatamente Si vede chiaramente Che io mi sto facendo I cazzi miei E lui mi inserisce In una diretta Io scusami Sono un personaggio pubblico Le persone mi conoscono Posso scegliere o no Come apparire su internet Cioè cosa fare su internet Ti ripeto che ci sono Altri strumenti Come diceva pure Simone Comunque vediamo il video Sicuro Ma sicuramente Inseguire una persona Nel cuore da notte Prima di vedere il contenuto Perché così Contestualizziamo Proprio La timetable Quello che è successo Un'altra domanda Il video che stavi registrando L'hai finito O ancora no? Io il mio video In cui spiego la questione È finito Devo solo pubblicarlo Sulle storie O sui Possiamo vedere Il contributo Perché Ci sono delle cose Che non mi tornano Chi è? Sono Dave Ok Oh bella Mi sembrava Qualcuna stanza Rubino Perché devo andare A mettere il telefono In carica Ok vai vai Ma scusa Io non so dove sei Ma non riesci a metterti In una postazione fissa Così guardi anche bene Il video Sì 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 Mi sto mettendo Col telefono in carica Su dove prende meglio Così Ok allora Ti aspettiamo Perché secondo me È importante Che tu veda il video Aspetta un attimo Dave Vedicci tutto State a vedere video State a vedere video Adesso sì Ce l'abbiamo sotto Malo Ok Pertanto ce l'avevo aperta Il discorso è che È molto semplice Io me lo rivedevo Proprio mentre Pietro stava raccontando La versione E adesso vedete Questa cosa Allora ci può stare Il fatto che Il gabbrone Non inquadrato Inquadrando la sua faccia Abbia messo Come ha detto lui Le mani in faccia Sono stato aggressivo Rispetto a uno Desti ragazzi là Però la cosa È molto molto rapida Nel momento stesso In cui Questi tizi Gli reagiscono Lui scappa All'istante Mentre scappa Quell'inquadratura Quella giocheresca È stata a vedere prima Lui non è Tumefatto in faccia E loro Gli corrono dietro E lo raggiungono Questo È Accadere Qualsiasi cosa Perché nel momento In cui tu lo rincorri Lui sta scappando Quindi vuol dire Che già hai sventato La sua aggressione Anche se lui è stato Violento nei tuoi confronti Ti ha messo la mano in faccia Basta si chiude Tu l'hai in corso E continui l'aggressione Da lì in poi La palla della violenza Passa a te Perché lui è scappato Ma hai sentito Che Dave Ma io su questo Sono totalmente d'accordo Con voi Nel senso Sul fatto che sia sbagliato Pietro Ti fermo subito Tu O prendi una versione O non puoi essere d'accordo Con quello che ha detto Dave Che va contro La tua versione No io sto ammettendo Che la reazione Anche dopo aver subito Un'aggressione È comunque sbagliato Su questo sono d'accordo Quello che ti sta dicendo Dave Io ti dico Come sei entrato tu in live Sì Insomma Avendo registrato il video Credo che hai anche Avuto modo di elaborare I tuoi ricordi Certo A voglia Eri lucido La questione è che Tu entri in live Dicendo Ho visto Gabbrone Che si stava picchiando Poi effettivamente È ammesso che Veniva picchiato Sai perché Non solo Non si vede Ascoltami Sai perché Non solo non si vede Il Gabbrone Tu mi hai fatto Col sangue dal naso Come dice Perché nel video Non si vede Non si vede Anche dopo Che lui Prova a scappare Perché come si vede Chiaramente Nella clip Del buttafuori Lui non viene colpito Sul naso Io ho visto Che gli davano pugni Così Così A stecca Non so se dove L'hanno colpito Ragazzi Mi sa che Ho visto un video Che non esiste Perché Guardate Non siamo a lui Scusate Abbiamo il video Qua davanti Eccolo qua Qua il Gabbrone In viso Non ha nulla Prima che facciamo Blaise Una domanda per te Pietro Ma lui Il fatto Allora vuol dire Che il buttafuori Non l'hanno picchiato Non l'hanno picchiato In faccia Scusa Guarda questo Ok Guarda questo frame È una persona Tumefata No ok Non ha il sangue in faccia Tumefata Ma tu quando sei arrivato Hai detto C'è il sangue nel naso Hai detto Tumefata Io mi ricordavo così Comunque Non ho mai negato Che anche i miei amici L'hanno colpito Cioè vi sto dicendo Che i miei amici L'hanno colpito Ragazzi Non so se Questa cosa è chiara Cioè Lui ha scritto Nelle storie Che anche tu Gli hai dato dei calci Poi dei magribini Com'era Mai successo Mai successo calci L'unico mio movimento Nei suoi confronti È uno spintone Così Per allontanarlo Mentre lui provava A mettermi le mani Al collo Provava ad avvicinarsi Questo alla fine Dopo il telefono Sparito Dopo tutto Ma io c'ho una domanda Di un te Ma i magribini Che volevano picchiarlo A che punto sono arrivati Cosa? I magribini Che volevano picchiarlo Da quello che si è difeso Col monopattino In quale punto Della storia stanno Ha detto Nord africani Dopo che lui stava scappando Da noi Dopo che lui stava scappando Da noi Quindi prima Che voi gli prendeste Il cellulare O dopo? Noi non gli abbiamo preso Il cellulare Ragazzi Però volevate Non gli abbiamo preso Noi il telefono Ragazzi Non gli abbiamo preso Noi Strano Andiamo con Sembra proprio Quello che farebbe Uno che vuole Forzatamente Fammi rimuove una cosa Che ho messo su internet Mi prende il cellulare Però Vabbè Potrebbe anche essere Come un uomo Africani Esattamente Esattamente Quello che farebbe chiunque Ma non è quello Che abbiamo fatto noi Non so cosa dirvi L'abbiamo inseguito Per chiedergli Di togliere il video Non per prendergli Il telefono Per toglierlo Se poi lui ha perso Il telefono E il video è rimasto online Un motivo c'è Un altro consiglio Un altro consiglio Pietro Io te lo dico Aspetta Palle Scusa un attimo Quando il gabbrone Te mette la mano In faccia La mano di dietro Alla testa Che stavi a dire Appena si avvicina Che te saluta In quel modo offensivo O dopo? Subito dopo Esattamente In quel momento lì Cioè lui mi dice Mong E poi mi mette Le mani in faccia E al collo E la tua reazione Vocale Che non so Fisica Qual è stata Quando lui ti aggrappa La mia reazione Fisica È stata assolutamente Zero La mia reazione Vocale È stata Levati dalle palle Non voglio stare Nella tua live Levati dal cazzo Ma tu te fanno così Quello che farebbero tutti Vabbè Vediamo Mi stai suggerendo Di dargli un pugno In faccia No Non ho spiegato No Però Ma non è Non ti sto dicendo Quello Non lo ascoltare Scusa Posso dire La mia versione La dica La dica No Io immagino Poi vabbè Dipende anche dalla persona Però che c'è Un minimo di reazione Non è che stai fermo Come proprio fermo 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 Come un pugno Cioè che cosa hai fatto No ma ovviamente Ho provato a non farmi Mettere le mani sul collo Ho provato a spostarlo Ma non ho Era sospettoso Rubino Non sono entrato Non sono entrato In guardia Se quello che mi sei Non è che sono entrato In guardia No io non so Di che gli dovevi Menare Però Ok Ho immaginato la scena Da come dici Che stavi fermo Possiamo Possiamo vedere Il video Ma perché io Ovviamente Non volevo Minimamente Diventare quello Che faceva la violenza Infatti non lo sono diventato Successo al 100% Non avere violenza Nel gambrone Perché Ti sto dicendo Un altro consiglio Se io fossi in te No Con Ero lucido Ricordo tutto E so che non ho fatto Un cazzo In questo momento Lo sai che direi Ma vediamo il video Se c'è il video È chiaro Vediamolo Possiamo vederlo Let's go Assolutamente Let's go Oh ma c'è Petro Stortico Il mongolato di merda Ti consiglio di lasciarmi stare Oh ti consiglio di lasciarmi stare Scusami Scusami Petro Vai tranquillo caro No zio Volevo dire il cazzo Qua mi mette le mani in faccia Per la prima volta È lui che ti sta spintonando Non viceversa Sì O interviene il mio amico Che era lì Vede la questione Il telefono vola A parte che Non ho Io c'è una cosa Che ancora non ho capito Come sia possibile Ma il telefono Io l'ho visto letteralmente Volare per strada In quel momento Non so come sia stata possibile Questa cosa Che poi fosse ancora Tutto intatto Che lui stesse continuando Ma non è nemmeno Tu m'hai fatto Stava una favola Non è nemmeno Tu m'hai fatto Poi subito dopo E stavo Tragliato Ce l'avete sfondato proprio Ma può essere vero Sia che il Gabbrone Gli ha messo la mano in faccia Sia che l'hanno sfondato Oltremodo Per questa cosa Scusami Quanti centimetri ci sono Tra te e il Gabbrone Se volete fare le cose bene Servirebbero delle persone Ma hai il video a schermo dietro Quanti centimetri ci sono Tra il tuo viso E quello del Gabbrone Ma che ne so Una spanna No ma lui non è venuto Non è avvicinato il viso Verso di me Lui ha avvicinato le mani No no dico In questo frame Lo vedi Lo vedi questo frame Che è sullo schermo Qua Eh Quando lui mi dice Quella parola Quella M Questo istante Il frame Questo Frame Eh ma non so Non ho capito A che punto è In questo Scusami Fallo partire un attimo Così capisco A che punto è No non deve partire Ci sei tu Di fianco a Gabbrone Tipo Con 30 centimetri No passano Non passano ancora lontano Poi mi si avvicina Scusa Quello col cappuccio bianco Chi è? Non sei tu No io sì Sono io Quello qui Lui si avvicina Insultandomi Quindi ora Tu sei molto vicino A suo viso Eppure ci raccontavi Di un Gabbrone Tu mi hai fatto Col sangue dal naso Io me lo ricordavo Io me lo ricordavo Già Già prima ancora Di avere la colluttazione Con noi Col sangue Comunque vi ripeto Ragazzi Sei confuso col dopo Dai Sei confuso Con ci Come ho detto Nella mia narrazione Posso parlare un attimo Ma perché la chiami Narrazione? Sembra finto così No nel senso Nella mia spiegazione Come vi ho detto chiaramente Lui le Se vogliamo chiamarle così Le randellate Dal mio amico Dai miei amici Le ha prese Nel senso Non ve l'ho negato Hanno reagito Andiamo Ti vediamo Sto famoso Che tra l'altro Tipo octopus Gabbrone Che c'ha sette telefoni C'ha un telefono per mano E c'ha un'altra mano Per guantare Tipo Non lo so Medusa Vabbè ragazzi Però ce ne sono solo Allora Scusami Scusami Petro Vai tranquillo caro Qua c'aveva già la mano Al tuo collo? Sì Non al collo Qua non ancora al collo Qua mi mette la mano in faccia E mi fa proprio così Poi successivamente Provo a mettere al collo Io lo sposto Tutto molto rapidamente E poi Provo a fare questo Mi ricordo Distintamente Perfettamente La cosa che mi ha dato Più fastidio di tutte Questo gesto Nel prendermi la testa E cercare di abbassarmela Tutto questo Mentre mi stava parlando Mentre mi diceva Oh poverino Di qua di là Ragazzi Cioè La mia parola contro La non ripresa Nel senso Non so cosa dire Credete quello che volete È andata così Vedi È passato Neanche due secondi Tra quello Sballottamento Dove non vediamo Dove sono le mani di chi E sta già scappando Gabbrone Quindi una strana aggressione Però sta No no ma potrebbe pure essere Che l'ha fatto No 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 Questo non possiamo verificarlo Quindi Crediamo al fatto 100% Lui gli ha messo le mani in faccia Perché era No no ma Questo non sono ironico Dopodiché però L'aggressione termina Lui scappa Perché si vede che loro Gli hanno reagito Ma io quello E lui se ne va Quindi basta Passati due secondi Tra la colluttazione Che non vediamo Che lui che scappa Due secondi Poi è finita l'aggressione Se tu gli ho riappresco Ma mentre se ne va O dice pure Mentre se ne va O dice Questi me vogliono menare E se vede lui Scusa Che comunque si dirige Pietro tu prima Prima però Mi hai confermato Che ricordavi bene Mi hai detto tu Hai detto che Questa parte Delle mani addosso Stove wrestling È durato Tre minuti No no Perché c'è stata Attenzione Adesso io non so Io non so Esattamente Scusami un attimo Posso spiegare una cosa Perché è molto importante Io non so esattamente Dirti L'ordine In cui sono avvenute Le cose fra riprese E cose avvenute Cioè non so Dirti esattamente Cosa è stato preso Cosa no Io non ho neanche Guardato con troppa attenzione Queste cose Che lui ha ripreso Io ti ho chiesto prima Apposta Se ricordavi bene Se eri lucido No Io ero lucidissimo Ma comunque Non sono una macchina Cioè sono cose Che avvengono Però prima Quando ti ho chiesto Se ricordavi bene L'avvenuto Mi hai detto di sì E che eravate anche in tanti Io ricordo perfettamente Le cose che sono avvenute Ma non ti so dire esattamente Allora il pugno È avvenuto dopo Questa parola La spinta È avvenuta Dopo quest'altra parola Però eri tu Che parlavi Non stavamo Facendo domande Quando hai detto Che questa parte È durata tre minuti Di wrestling Ragazzi Sì è una cosa indicativa Cioè ma io che cazzo Non so di quanto è durata Esattamente L'hai visto Non essere Diciamo preciso Ma ci sta Ma uno non si ricorda Tutti i dettagli Per carità Non è che Mi avete visto Ti tubante Quando mi avete chiesto Quanto è durata Io che cazzo Ne so Di quanto è durata Esattamente Quando la persona Ha detto cosa E che creazione C'è stata Alla cosa Che ha detto Esatta la parola No no Ma infatti ti dico Su questo Ci sta anche Non ricordarsi tutto Certo Mi avrebbe da dire Tra tre secondi E tre minuti Un po' ce passa Perché Qua era veramente Una cosa minuscola Comunque C'è la Dave Di là di quello Che è successo Perché qua in effetti No no Nel senso Qua non si vede Si vede un delirio Quindi C'è la versione De Pietro C'è la versione De Gabriele Qua nessuno Può fare sentenza Ci saranno testimoni Vedremo Comunque Poi Lui se ne va Ma poi scusami un attimo Cioè posso dirti una cosa Posso dirti una cosa Ma io In un video In cui non si vede Una pollutazione Tra i miei amici e lui Perché non si vede Che ragione ho Di dirti Con precisione Che invece di essere Stata soltanto Una roba Ma guarda Questo è il minimo Perché ad esempio Non ritornerebbero i segni Del Gabriele addosso No ma del tuo racconto Il tuo racconto Comincia con Gabriele Che si avvicina Rompe il cazzo a te E litiga con un quattordicenne Esatto Tu stasso quattordicenne Questa è una cosa grave Pietro Qua che ti volevo arrivare Perché scusami Mo io Te l'ho detto pure prima Al telefono privato Io non voglio essere preso Un giro Mo in tre secondi Tu prima ci hai raccontato Non è tanto Quanto è durata Il dettaglio Questo che ti volevo chiedere Tu prima ci hai detto Un'altra cosa Ma io non ti so dire Eh no Aspetta Fermati un attimo Con me spiega un attimo Tu prima Prima ci hai detto una cosa Non è che voglio giocare al lupus Anche se È divertente Però Lo stiamo già facendo Tu prima ci hai detto Prima che lui se ne andasse Cioè questo momento qua Ha aggredito un quattordicenne È per questo che i miei amici Poi sono tornati da lui Io non mi ricordo Non mi ricordo Maga Io non mi ricordo Se questa cosa è avvenuta Con lui che va Poi lui che torna E succede O se è avvenuto Durante quel momento di collutazione E poi dopo che si è interrotto il video Però scusami Tu prima mi hai detto Che i due amici Sono andati da lui In seguito Allora questa roba qua Era finita Tu mi hai detto Sono andati Sì I miei amici da lui Perché aveva picchiato Un quattordicenne Per chiedere la rimozione Del bod Do sta No Lui sono andati Do sta sto quattordicenne I miei amici Sono la prima volta I miei amici No ragazzi Non state seguendo Bene il discorso I miei amici La prima volta Si mettono in mezzo Per difendermi Ok Compreso il quattordicenne Ok Lui lì diventa violento Questa cosa Tra l'altro Non avviene lì appoggiati Al cornicione della metro Dove siamo Dove lui si avvicina La prima volta Ma avviene In mezzo alla strada Una volta attraversata la strada Eh ma lui l'ha attraversata solo Che voi gli siete corsi appresso Ecco perché state tutti insieme Nell'altra parte della strada E questa è la cosa Che io non mi spiego Scusami Pietro Ma voi gli siete corsi appresso E vede proprio Che lui se ne va Lui se ne va Perché voi effettivamente Magari l'avete mandato via Non ci rompe il cazzo Va a tenere via Lui se ne va scappando E poi dopo Se risente la voce Dei tuoi amici E tua anche Distintamente Chiesa di andare di dietro Se voi lo lasciate andare Perché effettivamente Avete sventato Questa aggressione Violenta Che lui ha fatto Nei vostri confronti Basta per voi La serata si conclude Secondo me il discorso Sta a monte E su questo Fidate Te lo dico Perché ho qualche anno In più di te Purtroppo Vorrei avere l'anni tuoi Tu Quanti anni hai adesso? 26 26 Sarà finito il tempo In cui Va in giro Fuori dal locale di Milano Quei maranzini 14 anni A fa brutta la gente Perché poi Si creano soltanto cose negative Questo ragazzo poi è amico Di una persona che io conosco Ma assolutamente Ma assolutamente Ma sul fatto di Avere avuto una reazione Comunque smodata Nell'inseguirlo Nel chiedergli Di rimuovere il video Che si poteva fare In altri modi Totalmente d'accordo Sulla reazione esagerata Dei miei amici Che non dovevano arrivare Alla collutazione Ma limitarsi ad allontanarlo Anche se lui andava avanti Nell'aggressione Totalmente d'accordo Però Il discorso è che Nel momento in cui tu Vieni aggredito Le persone si mettono in mezzo No perché veramente Al di là di tutto Marco scusa Guarda il video Contiamo insieme Perché è assurdo Io l'ho rivisto Adesso No guarda Guarda Veramente Guardate Allora Aspetta Giallo se no Non sento Aspetta Scusami Scusami Pietro Vai tranquillo Caro No zio Levati nel cazzo Uno Tre secondi e mezzo Barra quattro Do cazzo sta Collutazione Col quattordicenne Coglione di capo Finito 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 Se n'è andato Già Vabbè Allora ragazzi Facciamo così Senti Vai 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 Oh Oh In mezzo Agli amici di Pietro Storti Gli amici di Pietro Storti Mi fanno picchiando Scusa un attimo Davide E lui che scappa Eh Popo scappa Un cesto Scusa Vi ha mancato di rispetto No Vi ha beffeggiato Vi stava Stava di Pietro Storti qua No Con la coglione Tutte queste cose qui Vi ha beffeggiato Vi ha mancato di rispetto Certo Ci ha beffeggiato E si è preso degli schiaffi Scusa Davide Puoi tornare indietro Proprio al momento Dell'incontro Sì Eh Esatto Posso fare Adesso Posso chiedervi un secondo Esco un secondo E mi metto col wifi Va bene Mi sposto giù che c'è il wifi Così la smetto di laggare Due secondi Grazie Grazie Davide Io non so Tu anche Gianluca Che ne pensi Nel senso a me Più che un'efferata Aggressione Mi è sembrata la classica Roba da ragazzino molesto Che ti dà la botta E scappa Ma non si capisce Ma io ce voglio credere Io ce voglio credere Non esiste Regà Non c'è stare Parliamo Ma se sarà uno De cui fischieri in lato Ma non si capisce In che modo Avrebbe aggredito Sto quattordicenne Regà Allora Ma se prima Ha aggredito Se prima Sto aggressione Come ha raccontato Pietro Prima Pietro E poi è andato addosso Al quattordicenne Non c'è tempo Non c'è tempo Non c'è tempo Scusatemi una cosa La priorità Era la cancellazione Del video Quindi noi dovremmo Comunque anche sentire L'audio Per sentire cosa Gli viene detto Al cabrone Pure per capire Qual è la priorità Che li ha portati Ad inseguirlo Io un po' me lo ricordo Quello che si sente sotto Però diciamo Lo riascolterei Anche per capire Le motivazioni Davide Perché se una persona Stare in cuore dietro Qualcosa ti dirà Ma infatti Palle Che stavi a dire Inizio video? Vai Vai un attimo C'è un Sto all'inizio Un frame importante No 3.53 3.53 3.53 Pare strano Eh ma è quello Che ho detto prima Magari ha fatto così Non lo so Bravissimo Io stavo rivedendo Cioè Pensa un po' Il multitasking Stavo risentendo Quello che diceva Pietro Quando è entrato E per quello Gli ho fatto Un re Ma tu ricordi bene Cioè Prima che cominciasse Poi ricordiamo È entrato Era la sua versione Bella Lucida L'abbiamo interrotto Non lo so Mi pare Mi sento un po' preso Per il culo La mano al collo Può essere impossibile Perché se lui C'è un telefono qua Uno qua Come cazzo fai A mettergli la mano al collo Allora Allora Quando lo raggiunge Gli dice Quei ragazzi Dicono E adesso E adesso Che non è Per favore Leva il video E mo che vuoi fare Mo te m'ho preso Mo te menamo No Anzi Quelli Kitano Ti dico di più Quello che dice Quello che dice Guarda che io sto in live E quelli dicono E poi E poi E dopo E poi Non lo so Io ripeto Mi incazzo pure Quando mi si prende Per il culo Quindi Scusate La classica cosa Che quando Uno ti viene a rompe il cazzo E tu sei in tanti Fai adesso Lo facevo pure io Sono sincero Quando ero più Ragazzetta Adesso Magari stavo con amici miei Andavano a rincorre Sono proprio le frasi Che dici Quando vuoi andare Adesso che va fa No devo dire Le ho riconosciute Per quello Eh Un po' Pure io Per quello Però sono cambiati i tempi Per fortuna Sì Sì Io sempre Io al massimo Sempre con Simone Io poi c'ho un lento Ormai è una cosa classica E di morire Se c'è stava Thomas Adesso Infatti Che cazzo Era il fischietto Questo qua Il 14enne forse O Zucotto Oh raga Pietro Aspetta aspetta Che rimetto il video C'è l'ele Aspetta che non sentiamo nulla dell'audio Ti sentimo bassissimo Alzano un po' Marco Mi sentite? Adesso Un po' meglio Comunque è basso Mi alziamo anche un po' Noi Mi sono messo a 200 però Mi può allargare Buonasera ragazzi Ciao King Ciao C'è un mic spento Mi sa Uno dei due è spento Uno si sente fortissimo L'altro Quello di Pietro è spento Mettete un mezzo Secondo atto del processo No ancora niente No è proprio fuso il microfono L'altro Usate quell'arte Usatene uno Se no passatevi quello Top podcast Questo si sente? Sì 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 Questo si sente forte e chiaro Anche alto Riabbassano un po' Marco Allora Ciao Paghi Qua In questo frame C'è il ragazzino Sto quattordicenne E quello con lo zucotto Per caso? Non sembrerebbe Paghi Dal cappello È lo stesso Guarda come È lo stesso Quello dietro Quello dietro Non quella a destra C'è il cappuccio Quello dietro che pare tombito Non lo vedevo proprio No È il quattordicenne Non si sente più Mazza ma che è succedito Mi sentite più Marco Li puoi allargare Non ce ne capisco un cazzo No perché non ci stavo parlando dentro Bisogna Dico quello che si vede dietro È il quattordicenne Ma non so Non si vede niente Della faccia Come non si vede niente Questo qua Con lo zucotto Dietro di te Eh Lo zucotto nero Quello è Paghi Quello col giubbotto nero Non è quello dietro Non quello a destra Tra te e il gabrone Ci sta i te Poi dietro di te Ci sta Paghi Poi dietro ancora C'è una persona Uno zucotto Un giubbottino Qua bianco Il colletto bianco Bro se non erro Non so chi sei Allora Erano due ragazzini E quello là Con il zucotto Che vede tra il gabrone E il pietro Era quello là Un po' più grande Cioè l'altro Era ancora più piccolo Ok E tu sei quello a destra Giusto Paghi Io sono questo qua A fianco a Pietro Perfetto E il gabrone Ha aggredito Questo qui O quello più piccolo Quello più piccolo Ok E in questa inquadratura Dov'era Il suo 14enne Più piccolo Era tipo insieme Erano vicini Ok Tipo dietro Pietro Può essere Non lo so Comunque erano attaccati Ok Visto che Pietro ci ha raccontato Ma non abbiamo capito Molto bene Paghi Nel senso Da quello che ci diceva Pietro In questo momento E il gabrone Tutto molesto Obbriaco Rompi i coglioni È venuto Da voi È andato Verso Pietro E ha cominciato A fare delle cose Ce li spieghi pure Dal punto di vista tuo Che magari ti ricordi meglio Esatto Esatto Ragazzi Io Sono rimasto realmente Sotto shock Che dopo Dopo io Ho chiesto a Pietro Ma vi conoscete Siete amici Perché lui Come è venuto Cioè Toccava Pietro E parlava con Pietro Come se si conoscessero Da una vita Quindi io Essendo che non conoscevo Lui Li guardavo come se C'è stranito Perché il tipo si prende Delle gran confidentie Sì Io pensavo si conoscessero Da come si è posto Eh scusami Paghi Che gesti fa Quindi lui Nei confronti di Pietro E di quel ragazzo Dice un po' bene Dettagliatamente Cosa fa Allora subito Allora subito Lui dopo che Viene picchiato Viene picchiato Prima da Dai buttafuori Cioè Viene picchiato Malissimo Dai buttafuori Fate un casino Inizia a urlare 112 Li si è remessi contro E poi fa Tipo Pietro Tutto bene Tipo per dargli il 5 Gli scansa la mano E gli prende la testa E gliela abbassa Tipo così Non si vede nel video Però gliela abbassa tutta Pietro gli fa Guarda bro E ci evita Vabbè una cosa del genere Non è il momento Dai lasciami in pace E lui fa tipo Sì lasciami in pace Gli amici di Pietro Ora mi picchiano Stai cose così No no Il codio Scusami Non vorrei interrompere Aspetta 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 Vai Poi dopo di che Poi dopo di che Quando abbassa così Pietro Il ragazzino piccolino Va vicino come a digli Oh Testa di cazzo Gli fa brutto Prima Cioè Prima ci andrà Bocca C'era un ragazzo Altro nostro amico Che è intervenuto E gli fa volare il telefono Eh sì Poi dopo il ragazzino Si avvicina Gli va tipo faccia e faccia Anche se è piccolino Quello gabrone Gli mette le mani al collo Ok quindi Dopo che Dopo che l'avete inseguito Perché il telefono vola Prima che voi lo raggiungiate Nel video Succede tutto prima Degli inseguimento Ragazzi Tutto prima Tutto prima È impossibile Non hai i secondi a disposizione Che succedono queste cose Non si sente nulla Di quello che Ma scusate No no scusate Non hai tempo Non hai tempo No no Fermi un attimo Regà Buon in attimo Scusate Pachi e Pietro Vediamo il video Cioè adesso È una cosa molto precisa Cioè Il gabrone Avrebbe messo Le mani al collo Ad un quattordicenne Prima dell'inseguimento Dove cazzo sta Dove Ma pure tu Andate avanti il video Vi dico l'esempio Sì sì vai vai Dice il punto Perché non capisco Sì guarda tu Vai Bravo Dave Suppate tu Aspetta che metto il volume Scusami Scusami Pietro Vai tranquillo caro No zio Volevo tirare il cazzo Volevo tirare il cazzo Lui riprende il telefono Volevo tirare il cazzo Volevo tirare il cazzo Sì 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 Si sente quello Ma non so Magari le parole sono diverse Scusami 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 Questo ho 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 È riferito al bambino Sì perché poi Nello stesso momento Quel telefono vola Il ragazzino va insieme A gabrone A recuperare il telefono Ce ne vanno insieme Ok Sì poi lui si alza Si alza Essendo che il ragazzino era vicino In quel momento Lui si alza e scappa subito Inizia già a scappare Ok Poi si allontana Fa tipo 50 metri correndo Come fa Oh 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 I ragazzino mi va vicino Tipo si scambiano due parole Gli dirà un E ma dove stanno queste parole Io non sento un cazzo Aspettate un attimo Fatemi sentire Così sentiamo Cosa volete fare Con i giorni handicappati Oh 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 Poi il ragazzino Ecco qua parte Aspetta Oh In mezzo Agli amici di Petro Storti Gli amici di Petro Storti Mi stanno picchiando In verità Solo il ragazzino L'ha seguito Secondo me Vi conviene Mettela qui L'aggressione al ragazzino Qua c'è Qua c'è sta tempo In effetti Se la metti qua Qua funziona E qua ci sta molto meglio C'è proprio il tempo Anche materiale Per metterla Ragazzi è successo Lo chiamiamo se volete Le mani al collo Il ragazzino Aspetta Avvicinate il microfono Meglio Pietro Pietro Se parli però Ti devi spostare il microfono Non entro Non è che Non è che deve essere Qua funziona Ragazzi è successa questa cosa Abbiamo i testimoni Che c'è stata una colluttazione Tra il ragazzino E il ragazzino Quello che voleva dire Dave Che tu appena entrato Hai detto che nasce tutto Da questa colluttazione Con il ragazzino Poi Gabbrone scappa Poi succede tutto il resto Sì esattamente Nasce tutto dal fatto Che mi ha messo le mani addosso Se vogliamo proprio dirla Per primo Ancredendomi Però nasce tutto La colluttazione violenta Nasce da questa cosa Con il ragazzino Allora ragazzi Secondo me perché Abbiamo sbagliato Cioè non è stato un mani al collo Tipo come succede Come Max S Mauri Cioè che lo prende Cioè è stata tipo una cosa Una manata Capito Che è una cosa De un secondo Non è stata una cosa Prolungata È stata una cosa rapida Che partito Una spinta sul collo Però scusa un attimo Paghi mio Cioè è il quattordicenne Che prova Insegue il Gabbrone Dopo che già Si era levato dai coglioni Da voi no? Sì però Cioè il quattordicenne In quel momento Aveva avuto solo le mani al collo E voleva reagire In qualche modo Perciò lo seguo Io cosa vi ho detto Scusate Vi ho detto che la reazione Da parte degli amici È stata violenta Sicuramente Cioè no Volevo capire Diciamo le tempistiche Perché insomma È una questione Un po' incasinata Però grazie Che ci è stata risposta Io non è che vi ho detto Tre minuti Io vi ho detto Titubante Tre minuti Perché io esattamente Non me lo ricordo Non ho così No ma io su quello Io su quello Ti ho detto Che c'è sta Non ricordare i dettagli Certo non è un dettaglio Mettere in aggressione A quattordicenne Con mano al collo In un punto Che però Non sembra Riportare questo Poi oh Mica sto a fare RPM Per carità del Dio Comunque Qua poi Se va avanti Sì e qua Ti può prendere il pugno Già Tutto brutto Coglione Vai a fare il mongolo Con le fighe Merda umana Però dall'altro video Si sentiva pure Ok Nel momento Ecco qua c'è un taglio Però perché Nell'altro video Andava avanti Levemente di più E sentivano altre voci Pure quella Di Pietro Voglio chieda Paghi In questo punto In questo punto Esattamente Che succede Paghi Allora Il ragazzino Gli era partito Era corso verso di lui Perché il ragazzino Voleva diciamo Cioè Da fargli qualcosa Perché aveva avuto Le mani al collo Però Il ragazzino Era tipo Partito prima E alcuni ragazzi Un po' più dietro di lui Però subito Sull'impatto È arrivato solo il ragazzino Quando è successa la cosa Poi sono arrivati anche altri ragazzi Che succede Che Il piccoletto Gli dà un pugno in bocca Cioè gli spacca qua Non ho capito Se è la bocca o il naso Comunque Gli fa scelta anche del sangue E nulla Lui se ne va Dopo il pugno Se ne va Cioè non reagisce più Ok E noi lì siamo andati avanti A camminarli dietro Scusate E noi lì siamo andati avanti A camminarli dietro E a inseguirlo Per quella roba Del cancellare i video Fino a che non è successa Quell'altra cosa Adesso potete chiedere anche a Pachi Di cosa stiamo parlando Aspetta Chiedi come è andata avanti la questione Quando tu hai scappato È andata avanti Allora Noi siamo andati Noi stiamo Diciamo C'eramo Cioè Cercavamo di calmare Pietro Tutti Perché comunque era una cosa brutta Eravamo tutti sotto shock Specialmente io Che non mi aspettavo tutto ciò Sembrava tipo un film Pietro Pietro mi fa Ragazzi L'importante C'è Non mi interessa a me Che mi ha messo le mani in faccia La cosa brutta è il VOD Perché nel VOD Si sente che lui Fa il mio nome E dopo un po' C'è il sangue La gente può pensare Che è colpa mia Ma non c'era il sangue Però Pachi Non si vede il sangue All'inizio No Cioè Dopo il ragazzino Ah dopo il cazzotto Il ragazzino Eh Pietro diceva Il VOD Non va bene Perché possono pensare Che sia stato io A dargli Cioè Tra l'altro Per il sangue O per il Per il sospetto Non ho capito Prima era l'insulto Il motivo Infatti così C'ha più Cambia spesso Però Per quello chiedo Se ricordate bene Abbiamo passato La giornata A parlare di questa cosa No assolutamente Più vicino al mic Pietro Porca puttana Fai un podcast Metti Quella bocca Sul microfono Non sono abituato A averne Comunque Niente Anche questa cosa qua Assolutamente È Totalmente Dentro le ragioni Per cui Non voglio che il VOD Ci sia Infatti cosa vi ho detto Non voglio essere coinvolto In questo tipo di cose In questo tipo di contenuti In questo tipo di dinamiche Che non mi appartengono E poi ci sono anche Delle altre persone Che sono comunque A spizziche bocconi O anche solo con audio Riprese nel video Quindi ovviamente Anche tutto questo È dentro la ragione Ma la mia ragione principale È la roba che non mi va Di essere in un cazzo di video Nel gabbrone Dove vengo preso A manate Insultato Bullizzato E messo dentro questa roba Patetica Di Boh Non so come Almeno questo era Il momento in cui è successo Poi possiamo dire una cosa Possiamo dire Chi vede il video Non se ne accorgerete Non sarebbe mai Di tutte le cose Che hai elencato tu No possiamo dire una cosa Che comunque Il livello di combattimento Del gabbrone Inaspettatamente Sale tantissimo Over 9000 Cioè ha tenuto botta A 5 persone Con 3 telefoni Cioè aveva Un telefono per mano Nartro è attaccato qua E ha tenuto banco E ha seminato il palico Con 5 persone Mi sembra pure Bella Testosteronica Io pensavo Era in berserk Praticamente Fino a prima Stava trattenendo Stava trattenendo Laura Fino a prima E poi Non solo C'hava pure il malus Che già c'hava un po' De vita in meno Perché gli avevano menato Poi le butta fuori Cioè È tipo È un quarto della vita Esatto È tipo la mossa finale De Tekken Porca troia Stava in ultra ego Ah comunque Vabbè Tornando quindi a noi Ok A sto punto della storia Che succede Pacone Che succede Nulla Che poi lo riacchiappiamo Cioè Era un motivo Dei ragazzi No Che volevano picchiarlo E io gli faccio Ragazzi Andate un attimo Prendetelo Ma non picchiatelo Cioè io urlo Proprio per strada Dico ragazzi Non picchiatelo Gli amici nostri Immobilizzatelo In conume Dico no Ragazzi Non picchiatelo Fategli capire Che il problema Non è Picchiarlo Ma deve cancellare Solamente il VOD Noi gli facciamo cancellare Il VOD E poi se ne va a casa Cioè ma questi qua Prendetelo vivo Ma scusate Ma questi qua No ma scusate Questi qua Prendetelo vivo Ci sono spaurati a caso No scusate ragazzi Aspetta Poi sono arrivati Questi ragazzi romeni No Con cui lui serve Nord africani Nord africani Nord africani Nord africani No ma scusate No ma scusate Non gli al collo al bambino Cioè poi dopo Non si è capito più niente No scusate un attimo Regà Questi due nord africani Sono spawnati Da dove? Che hanno visto la scena Penso Ok e che cosa hanno fatto Sono andati al gabrone Aspettate ragazzi Sono andati al gabrone Per fare cosa? Per menarlo? Non lo so Cioè io non li conoscevo nemmeno Ok però aspetta 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 Perché tu vai da Però scusami Tu hai detto Io l'ho chiamati Bloccatero lì L'importante è il VOD E che cazzo ne sanno Questi car VOD? Ma io pensavo Che erano nostri amici Invece poi mi hanno detto Che erano persone Che lui aveva E aveva litigato scappando Si era beccato pure Quello che aveva litigato Ma come pensavo Che erano nostri amici Ma che vuol dire? Ma sono due nord africani Infatti è uscito al buio Non lo conosce No 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 Fermi fermi tutti Fermi tutti Un secondo Vi prego Allora Piede Io te voglio bene Però i tuoi amici Sono quel gruppo Ok? Che state insieme E che l'avete inseguito Questi sono due nord africani Come fai A non capire Che il suo amicino Che non conosce Nessuno dei miei amici All'inizio Eravamo No 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 Scherzo 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 Hai detto una cosa gravissima Rubino Non so se te ne sei reso conto Ma Noi prendiamo le distanze Da quello che ha detto Rubino Se deve pagare David Rubino Scherzo Rubino Scherzo Era per stemperare Era per stemperare Rubino C'ha ragione Posso un secondo? All'inizio Della lista Quei butta fuori Eravamo io Silvestro Baffo Ok? Alessandro Marino E Pasquale Sibillo Fine I miei amici Sono arrivati successivamente Perché questa rissa Quei butta fuori Non è durata un minuto È durata un po' Con lui che andava Veniva menato Veniva cacciato Ritornava Faceva i video Vi denuncio È durata un pochino Eri nel locale Non sono persone Che Pachi conosce Sono persone esterne Al mio giro Tant'è che Come vi ho detto Il 14enne È l'amichetto Che si vede poi nel frame Ma io manco li conoscevo Si sono messi in mezzo A buffo Perché Successivamente A quando i miei amici stretti Si sono messi in mezzo Pietro Non ho capito una cosa La rissa Col butta fuori Che andava avanti Quindi eri nella zona fumatori No 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 Eravamo fuori dal locale Posso spiegare Questa cosa Dei butta fuori Allora Noi arriviamo Tipo per le due Circa Al club E aspettavamo Dei nostri amici Per entrare Cioè Dei amici di Pietro Poi che succede Che Vediamo che Da fuori C'è Gabrone Che Mentre registra Ha un cartone In bocca Da dietro Dei butta fuori Che iniziano a picchiarlo Proprio calci in bocca Cazzotti Perché Noi non sapevo Cosa avesse fatto Perché siamo arrivati Proprio nel momento In cui era Scattata la rissa Però C'è picchiatissimo C'è Calci in faccia Pugni e tutto Vabbè No No perché Se vede l'avviso Che non ha ricevuto Botte forti in faccia Ok ragazzi Allora scusatemi Ci siamo immaginati Questa scena In cui i butta fuori Lo picchiavano No l'hanno picchiato L'hanno picchiato Ma l'hanno C'è un tizio Che lo prende da dietro così Iedana Saranga L'hanno buttato a terra Ragazzi L'hanno buttato a terra E poi lo buttano a terra Ma quando parla con te Quando parla con te Se vede più volte In cuorato Non c'ha nessun segno In viso L'hanno picchiato Da altre parti Non ti sto a dire Che non è vero Però Dire che l'hanno Corcato in faccia Specificarlo anche Specificarlo anche È un po' diverso Un po' sus Mo' non dico Che sia obbligatorio Però di solito Questi butta fuori Molto violenti Fanno in modo Di non lasciare Segni evidenti Esatto Sono anche istruiti Ti picchiano in zone Con metodi Per esempio I classici pizzoni Sì 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 Sono dati Per non lasciare segni Nel senso Se io muovo And go live Ve do un pizzone a testa Magari non ve lascio Dei segni evidenti Capito Però magari Ti fanno loro Dopo No no Ma magari loro Stavano lontani Non hanno visto Oddio Se uno te sta In faccia E te meno E erano tipo A 15 metri Però ragazzi Io vedevo con i miei occhi Che lui Quando era a te Gli davano calcioli in faccia Vabbè Ok Seppure che si è parato così Butta fuori Sono grossi Hardway Club Se ti dà calcioli in faccia Te svidare la testa C'hai un segno Gli davano calcioli in faccia Schiaffi Cazzotti Lo prendevano in faccia Io l'ho visto Con i miei occhi Cioè non me lo dimenticherò mai Ma comunque Il pugno del nostro amico L'abbiamo appurato completamente Ok comunque Vabbè Concludiamo Anche perché poi Così chiudiamo Allora L'ultima cosa quindi Mi manca un pezzo Allora Io mi sto immaginando la scena È molto scorsesiana Anche un po' Se vogliamo Grottesca Allora ci sta Pachi Che vede due Nordafricani Non meglio Diciamo Distinguibili Presunti amici Poi non sapevo Chi fossero Ok Fermi Fermi Fermatelo Fermatelo L'importante è il VOD Ok tu arrivi lì Questi Che cosa stavano facendo E soprattutto Dove sono finiti Sti telefoni Allora Io quando siamo partiti Che dovevamo cancellare Il VOD Cioè noi stavamo tornando In piedi Per andare al The Club Poi Pietro fa tipo No Il VOD Cosa importante Ok quindi Torniamo di nuovo Sui nostri passi Ok ci sono Quando stiamo andando Per il Gabrone Cioè il Gabrone Già era Già aveva preso Il cazzotto in bocca Dal ragazzino Che non c'era più E già stava litigando Questi due nordafricani Che l'avevano tipo Spogliato Cioè noi quando siamo andati Questi nordafricani Ma tu pensavi Che erano amici vostri Nonostante non erano Parte del gruppo Che cosa? Tu prima hai detto Che pensavi Che questi due ragazzi Erano del gruppo vostro Perché io tutti Cioè io Però poi eravate da un'altra parte Lui non conosceva nessuno Io manco un viso conoscevo Però stavano tutti con me Ok ok Finisci pure poi? Comunque Arrivò lì Io arrivo Cioè da Gabrone Che c'erano questi due nordafricani vicino Lui mi prende la Tipo quelle bici che si affittano E me la vuole lanciare La bici? Io gli faccio Ma non era monopattino prima? No era la bici Beh era stato un monociclo Dai Vabbè vabbè Dai un veicolo Un veicolo elettrico Dai Qualcosa di grosso Che mi voleva lanciare Io mi prendo le distanze Lui la posa e riscappa Poi noi ricorriamo ancora E lo prendiamo Su quella cosa Dai non picchiatelo Fategli capire Però non si poteva ragionare con lui Lì faceva solo No non mi frega un cazzo Il telefono Il telefono Poi noi abbiamo chiesto Il telefono che fino abbia fatto A dei ragazzi I ragazzi hanno detto I ragazzi che hanno preso il telefono Noi non li conosciamo Il telefono è finito per sempre Non esiste più Allora Bene 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 Siamo arrivati al punto Allora Allora Adesso però Il buon Pietro Che smadonna Nel back Mi deve rispondere a sta domanda Anche tu paghi ovviamente Allora Prima ci siamo sentiti al telefono Io ti ho fatto sta domanda Ma Scusatemi un attimo No vabbè La domanda è la sequenza È la sequenza La domanda è la seguente Ma Sarà una casualità Decisamente strana Certo Non me ne stupirei Perché in effetti Il gabbrone Ha avuto una serata Veramente da parto col folle Però Sarà una coincidenza strana Che la priorità Come è stato ribadito Più volte da voi due Era il VOD E che casualmente ha beccato Due nord africani Che hanno fatto sparire i telefoni Sì è una casualità Ma È una follia Ma lui stava a riprendere Con più Con più Un telefono Sta cosa Non si è capita Lui perché ha tre telefoni Ma che cazzo Chi cazzo è L'FBI Perché cazzo è James Bond Perché ha tre telefoni Vai Vai Troppi contatti Nel senso Vi sembra così folle Che un tipo Visibilmente Infogliato Incazzato Nero Fuori di testa Che sta facendo Rissa con chiunque Gli si capi di davanti Che va a provocare Le persone volontariamente Come ha già fatto In un sacco di episodi passati Eh Si sia scontrato Con ulteriori Due tipi Nel Eh a dire il vero Quando Quando viene menato Dal buttafuori Lui dice Scusa bro Ti do la mano Ah ok Sì sì Ah mannaggia Ma che lui Sia molesto Ubiato Nessuno l'ha negato E le responsabilità Del gabrone Nessuno l'ha negato Però quello che dico io È che Mi sembra Quanto meno strano Il racconto Perché se adesso Noi prendiamo il voto Ricostriamo tutto Ci abbiamo un gabrone Che essenzialmente È Una sorta di Non lo so Supereroe Perché Se prende le botte Te butta fuori Tiene botta Con cinque persone Becca altri due E quindi Semina il panico Per tutta Milano Però poi Quando ritorna a casa Ce l'ha solo Con Pietro Storti Vabbè Poi magari lui Era incoglionito Che si scorda i pezzi Perché era pure ubriaco Dici che magari Non ha neanche capito Chi cazzo gli ha messo Io ti dico Non mi fido Neanche della versione Fa pure comodo Io non mi fido Della versione Del gabrone Per un semplice motivo Stiamo su internet Quindi anche il fatto Di prendersela Col nome più noto Potrebbe avere un suo gioco Io pure per quello L'ho detto No io ti dico Che la versione Del gabrone A me non mi Cioè io non credo La versione Del gabrone Per un semplice motivo Non è attendibile Io credo Quello che abbiamo visto Tutto ciò Tutto ciò è successo Sempre perché era Pietro Cioè il gabrone È arrivato Gli ha messo le mani in faccia No l'aggressione Sarebbe stata Comunque l'aggressione Paghi No lascia perdere No dico nel senso Se fossi stato io Non succedeva tutto ciò Ah perché non ti avrebbe Rottorcazza all'inizio Dici No nel senso Quando gli mette le mani in faccia Lui già rimaneva a terra Là in quel momento Non succedeva tutta la corsa Cioè in che senso Cioè quando lui è venuto Gli ha messo le mani in faccia Ragazzi ma è inconcepibile Non reagire Cioè tutti avrebbero fatto Cioè tu che avresti fatto In quel momento Io l'avrei distrutto A terra subito Cioè non esiste Cioè chi sei Di per potermi Ce sta No ce sta Vabbè ce sta Leggi No perché tutti i bambini Del cazzo Che mi commentano Mi scrivono nei DM Sono i primi Che farebbero risse In tutte queste situazioni Che si gasano Quando c'è la risse E uno reagisce dai pugni Io me ne sono stato fermo Con un'aggressione Mani in faccia Mani sulla testa Mani sul collo Me ne sono stato fermo Non ho fatto nulla Quando il 90% delle persone L'avrebbero lasciato per terra Menato seriamente Beh Pietro però Hai lasciato che altri Lo picchiassero per te insomma Non mi sembra Ah ok scusate Allora ho sta colpa Non ho Non mi sono messo Tipo berserk In mezzo ai miei amici Che volevano Ma non è berserk Sono tuoi amici Si stanno battendo per te E hanno fermato il pugno Così con la mano Scusate Amore mio Si stanno battendo per te Come ti ho detto prima Bastava dire Regà Si stavano battendo di più Cioè più per il bambino Che per Pietro Vabbè poi detto questo Perché manca l'ultimo pezzo Chi è che poi fisicamente L'ha corcato De botte a terra Tra voi E che in effetti Mi manca sta cosa Perché Pietro Però scusate Però chiamarlo un bambino Comporta anche una responsabilità Io mo Non voglio aprire Sta parentesi Perché poi Diventa Sembro Un moralista Del cazzo Ma sto token Del bambino È più contro Che pro eh Eh ma tanto Non è amico no Cioè è amico degli amici Che avevamo lì Non so come spiegare Che ve la sta cosa Non so se sono stato chiaro Perché la sta prendendo Molto l'altra Però io prima Ho sentito da Pietro Questa parte del gabionaterra Comunque non esiste Questa parte del gabionaterra Menata da noi Non esiste Io ho sentito Pietro Da parte tua però Che hai ribadito più volte Mi prendo le mie responsabilità Io Vi dico tranquillamente Vi dico tranquillamente Che i miei amici L'hanno picchiato Ve lo dico Ve lo dico apertamente Non mi nascondo Tra un dito Io no Questa non lo fa Passare con una mia responsabilità Attenzione Perché voglio che siamo precisi La mia responsabilità È di averlo voluto inseguire Con anche Delle No no Intendevo mia responsabilità Che dico la verità Che racconto la verità Su quello che hanno fatto i miei amici Non c'è stata Non si sono trattenuti I miei amici Ok però spiegami bene Chi è che fisicamente Ha distrutto Il volto del gabrone Allora Il gabrone C'è il La cosa più L'aggressione più dura Che ha avuto ieri È stato solamente Il pugno del ragazzo Poi non è stato toccato Più da nessuno Oltre ad essere inseguito È placato Paghi ma mi stai a prendere in giro? Scusa Dove gliel'ha dato Sto pugno? Per capire È stato solo inseguito Poi da noi Scusatemi Il pugno che ha ricevuto Dove? In faccia qua È riuscito il sangue Ah quindi praticamente Perché io ho visto La prognosi del gabrone Mi metti la prognosi Marco Marco per favore scusami No perché qua veramente Io adesso Vabbè no là c'è solo l'esito Cioè uno mantiene la pazienza Per due ore Però manco a fame Prende a piselli in faccia così Piselli in cammino In realtà l'abbiamo preso Ma forse in Nordafrica Di dopo Forse la prognosi Forse la prognosi È perché è stato picchiato Duramente come dicevo prima Dai buttafori Che non mi dice Non c'aveva Quei segni in faccia Guarda qui E tu come hai fatto Guarda qui è A regà ma che c'è Ragazzi Posso dire una cosa Voi non siete un tribunale Nel senso Se dovrà succedere qualcosa Ci saranno le riprese Del locale E dei buttafuori Che lo menano Punto Grazie che me l'hai ricordato No Sì sì Nel senso Mi state attaccando Violentemente con sta roba Per dirmi minchia Amore mio Scusami però Pietro Scusami un attimo però Pietro Tu ti rendi conto Che è stato picchiato Un ragazzo Al di là delle sue responsabilità Che nessuno Ha messo in dubbio Certo che me ne rendo conto E mi dispiace tantissimo E allora Non mi fa la cosa È ovvio che è una roba grave È una roba gravissima Regà Non è stato picchiato da me Cioè è questo che vi sto dicendo Non è stato picchiato da me Infatti ti ho detto Sono contento Che tu comunque Stia cercando Di raccontare la verità E ti fa onore Però se Vediamo quello che vediamo In faccia al gabrone Non mi se può rispondere Ha ricevuto un pugno Non è una roba da un pugno Regà Ma che fanno Come il caso Cucchi Oh Marra te lo giuro Da noi Da noi ha ricevuto solo Quei pugni Eh la mia domanda Da chi Da chi ha ricevuto Quelle botte Basta Nessuno l'ha toccato Insomma che cazzo è questo ragazzino Quindi si è picchiato da solo Pacquiao Manny Pacquiao Un pugno Un pugno ha preso da vari punti del viso Le mani Vabbè le mani magari si è sgraffiate Cadendo Però faccia Non c'ha un pugno Che cazzo di pugno c'aveva C'ha il pugno più grosso Dalla testa del gabrone Questo Ma i pugni nelle mani magari Che cazzo È uno dei giganti Che è Scusate ma non c'erano i nordafricani Che avete trovato Che l'avevano quasi spogliata Allora noi quando siamo arrivati Quando io sono arrivato alla bici Che c'erano già i nordafricani E lui Lui già era dissanguato E io faccio Ma perché ha questo sangue Io gli faccio Ma perché ha questo sangue E loro mi fanno Il ragazzino l'ha colpito Io dico il ragazzino Cosa Il ragazzino Cioè l'ha colpito Poi è scomparso È scappato via Ma scusate Ma sto ragazzino Non era uno del gruppo vostro Amico da amico Fratello dell'amico Eravamo separati Loro erano venuti lì Con una macchina Noi eravamo venuti lì Con un'altra Non eravamo lì Per fare serata Con un ragazzino Di 14 anni Bene Però la domanda è un'altra Pietro scusami Tu sei d'accordo Sul fatto che questo volto E che questa prognosi Non siano relative Ad un singolo cazzotto E io come ti ho ripetuto Mille volte Come ti ho ripetuto Mille volte A parte che il cazzotto Era forte evidentemente Perché gli ha fatto male Sì frate ma te vi ha il naso Non te vi acqua Te vi acqua Qui sono più cazzotti insieme Qui l'hai proprio sfondato Cioè tu l'hanno proprio sfondato Frate Ragazzi Ragazzi No no ti dico Penso che Sono più grandi di me Cioè alcune Quando uno è tu mai fatto I lividi Cioè non escono subito Cioè io mi posso dire Che il cazzotto sul naso L'ha avuto dal bambino Ma quest'altro qua L'ha avuto dai buttafuori 100% Io l'ho visto con i miei occhi Guarda Pachi Ti correggo Perché come ci raccontava Pietro appena entrato Gabriele è arrivato da voi Già tumefatto Col sangue dal naso Non ho sbagliato su questo Lo ci ho detto Mi sono sbagliato Non è un processo Mi posso sbagliare Quante volte voglio Però questa cosa è vero Cioè dei lividi Dell'aggressione Dei buttafuori Potrebbero essere usciti fuori Magari 5 o 10 minuti dopo È vero Questo sì Questo sì Per nascondere il fatto Che l'ho picchiato io Ovviamente No no Infatti per quello che io chiedo Cioè la domanda è questa Visto che lui non ha Ovviamente il volto Di una persona Che ha ricevuto Un cazzotto in viso Ok E effettivamente Nell'incontro non c'è niente Sembra abbastanza fresco Però sì Alcuni lividi escono prima Altri meno Sgraffiato sul collo Vari segni di percosse in faccia Poi ovviamente Non è che stiamo qua Questi segni simboleggiano più colpi Il sangue è sceso Il sangue sì Lo sappiamo tutti Lo impariamo da bambini Gli diceva coglione E tutto Sì sì no no Ma poi ripeto Regà Lui comunque si è fatto Fa una prognosi E quella si può verificare In tutto questo Io non ho seguito i video Che sono usciti E ancora No no L'abbiamo fatto vedere Ma nessuno ha ripreso Questa menata clamorosa Fatta dei buttafuori del The Club Zero Nessuno Non c'è un'immagine di lui Che vuole a terra Un'immagine di lui Che minaccia La sua live No no C'è la sua live C'è la sua live Si vede Lui che prima di me Dice merde umane Sì si vede L'abbiamo visto L'abbiamo visto L'abbiamo visto Lo sapete che è stato picchiato Dei buttafuori del The Club Sì l'abbiamo già detto Pietro Non stavo dicendo che non è stato picchiato Anzi mi sono cazzato Come una bestia Quei buttafuori Mi sono cazzato più con loro Che con quelli che hanno picchiato Quei segni Ho fatto un macello Ho fatto Spero che voi abbiate capito La dimensione Mettere in mezzo il mio nome Che sono la persona Che in tutto questo Ha fatto meno Nel senso che la mia unica colpa Se vogliamo chiamare la colpa Per me non è una colpa È di non aver fermato i miei amici Si mette in mezzo il mio nome Perché Petro scusami Perché la cosa deve andare virale Pietrone Pietrone Semplicemente Magari qualche tempo fa Però No ti dico Il fatto che sia uscito il tuo nome Stavi lì Ovviamente Lui ha rotto il cazzo A te è normale Però Il punto è La tua responsabilità c'è Ed è come Ed è molto grossa Perché non è che vale Oh i miei amici Stanno a stuprare Però io stavo lì Non ho fatto niente Cioè nel momento in cui tu vedi Però a quanto pare Un cazzotto Dato da un quattordicenne Manco amico tuo Se le cose stanno così Tu che responsabilità c'hai Se le cose stanno così Mi vedi preoccupato Beh questa era una bella citazione però Mi sto preoccupando io Mi vedi agitato No nel senso Se effettivamente Tu hai detto Ragazzi Mi interessa solo il VOD Leviamo il VOD Ma non lo dovete toccare E sto quattordicenne Che a volte è amico A volte non è amico A volte è fratello De uno Arriva da un cazzotto Bum Proprio così Devastante in faccia Tipo che è lì Lo sderena E nessuno l'ha più sfiorato A quel punto Certo Che potete fare Anche su questo Scusami Tra Pachi Tra l'altro Se devo cercare Cloud Pachi ha più follower Forse era Era quello da nominare Però Tra Pachi e Pietro C'è un'altra cosa Che non capisco Perché Pietro tu prima Citando anche Berserk Dice la mia colpa È di non aver fermato I miei amici Tipo Berserk Quindi mi immagino Una scena bella cruda Pachi ci parla Solo di questo cazzotto Di questo quattordicenne Quale delle due? I miei amici Volevano menarlo E un ragazzo Gli ha dato un pugno Ok Ma i due amici Hai compreso Pachi Cioè chi sono Sti amici No 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 Altri amici All'inizio cosa vi ho detto Eravamo io Alessandro Marino Pachi e Silvestro Poi sono arrivate altre persone Ve l'ho detto Non vi metterò qua Silvestro Vabbè Allora Regà L'ultima domanda L'ultima domanda Perché non c'entra un cazzo Con Con Un festaggio Poi com'è andata la serata Pachi No Poi io Visto che Pietro voleva tornare a casa Perché stava scossissimo E io essendo che Devo tornare domattina Vi faccio Pietro Dai Ciliamocela un po' Tanto me ne vado Farlo per me Svagliamoci un po' Che Non staremo a casa È successo È successo Poi siamo andati al club A ballare Ok Vabbè Penso non ci sia altro da aggiungere Qualcuno a qualcuna Qualcuna Non rompere i coglioni Non è che puoi farlo passare a tutti No no Quello si Però vabbè C'è modo e modo Mi puntava Mi ricordate i tempi Che Pure a me Mi puntava bello pesante Sì lo so Non rompe i coglioni Però non può essere Che temerano ogni angolo di strada Perché rompi un po' i coglioni Che vedo Pietro mi ha detto Adesso valli parole A fine serata Mi fa Io lo sapevo Che Lui appena mi vedeva Faceva ciò Io gli faccio Scusa Pietro Cosa No Noi dovevamo stare in disparte Io gli faccio scusa Noi dovevamo stare in disparte Perché Cioè non possiamo stare in una piazza Perché lui Se no viene E ci rompe le palle Cosa vuol dire Noi stavamo lì Per cazzi nostri Lui mi fa Sì ma io lo sapevo Che faceva così Ma lo sapevo Questo cazzo A me Cioè Nessuno deve rompere le palle Cioè nessuno è autorizzato A rompere le palle alle persone Sì c'è Stanno dei limiti Verrà capito Insomma Uno non deve manco Rompere le palle Però poi non bisogna Arrivare alle mani Per delle parole Poi però non so Si è spintonato Lui è molto provocatore No no Lui non è un provocatore Rubino Lui è un aggressore Perché mi ha messo le mani in faccia Al collo E mi ha sbattuto sulla testa Quindi il Gabrione È un aggressore Fine Discussione chiusa Anzi secondo me Qua si parla anche di cose sessuali Secondo me Lui gode È proprio piacere A essere picchiato No secondo me sì Vuole proprio quello Cioè va dalle persone Proprio in cerca Di Cioè Mo ha incontrato Pietro Che è bravo Ma se lo ha Stavato con un altro ragazzo Cioè Lui era ancora lì L'ha condannato L'altro psicoanalizzato Vabbè ok Quindi lo state a dipinge Come quello che se le cerca Essenzialmente Che potrebbe anche Cioè Te la butto là Potrebbe anche essere Che uno che sta male Esce di casa A provocare il prossimo Perché c'è qualche turba psichica Non penso che Non penso che il gabrone sia Non l'ha mai fatto Non penso che il gabrone sia La persona più Diciamo Con meno Cioè con poche turbe In testa Sicuramente E va aiutato Su questo sono d'accordo Poi per quanto riguarda Quello che è successo Penso che ve risponderà Esattamente Mi dispiace comunque Vedere una persona Che tra l'altro Piccola parentesi Ai tempi delle sue live Prime live Eppure io seguivo Ridotta così Però Il discorso è che È sto lavoro No Massimo De Pasquena Lo abbiamo visto Mille volte Fare queste cose Non vorrei Creare precedenti Perché ripeto Non è un tribunale Quindi non è che Si vanno ad analizzare I precedenti Però il cristiano Fa queste cose Da due anni Solo queste Va a cercare Rissa con le persone A provocare Sì è vero Questa è la dimostrazione Che queste non sono provocazioni Ma sono aggressioni Qua lui Ha pisciato fuori dal vaso Perché non mi ha Provocato Dicendomi Oh scemo Coglione Mi ha messo le mani addosso Questa è un'aggressione Io potrei pure denunciarlo Per questa cosa Quindi non so Di che cazzo Stiamo parlando Spesso gli abbiamo criticato Questi comportamenti Fumantini Con il prossimo Abbiamo fatto 20 puntate Contro il cabrone Ma figurati Ma Rubin Ma a me volevi dire qualcosa O ho flashato No 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 Te volevo dire qualcosa Ti ricordi Quando mi rompeva il cazzo A me veramente pesante 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 Che poi io sono andato A Riccione E poi lui è venuto A Riccione Per fare live I cazzi suoi E io ti giuro Quando stavo lì A ristorante Ciao davanti Io ti giuro Frate Pure peggio di te Era proprio La cosa che Io volevo mettere Ti giuro Volevo spaccare tutto Però poi Perché lui che cosa faceva Cioè ti trollava Che stava a fare No che trollava Lompava proprio il cazzo Pesantemente Pesantemente È fastidio Sì ma Su tutte le storie E cose Poi però Sono arrivato Lì davanti a lui Ho detto Ah sì Ma parlamo un attimo E io mi sono messo lì Seduto E mi ci sono messo A parlare E poi Se siamo parlati Cioè il Gab In realtà È una persona Anche che ci vuoi parlare Tranquillamente È vero È molto esaltato Però Se tu ti metti là A capire cose Se siamo parlati pure De varie cose Io ho detto varie cose mie E lui varie cose sue Cioè è una persona Tranquillissima Io ho sempre conosciuto Quell'altra versione Perché con me Non si è mai comportato Con quell'altro mood Anche perché Trova Come posso dire Uno specchio riflesso Oppure un muro bianco Non trova risconto A me piacerebbe Un sacco Poter parlare Con il Gabbrone Dato che anni Che mi insulta Pesantemente sui social Io non ho mai fatto nulla Neanche questa volta Quindi mi piacerebbe Poter avere un confronto Da dove nasca Questo suo odio Così feroce Comunque Petro Allora Paghi e Pietro Grazie Io semplicemente Pietro Non ho ancora capito Una cosa Però ogni volta Non mi rispondi Quindi non lo so Cioè nel senso Come ti ho detto prima Tu hai tenuto più volte A ribadire Anche in questa live Io non mi sto nascondendo Dietro un dito I miei amici L'hanno picchiato E poi mi dici Che il 14enne Non è manco amico tu E è l'unico Che gli ha tirato un cazzotto A me sta cosa Non mi torna Comunque i miei amici Gli hanno anche fatto volare Il telefono Questo sto dicendo Ti l'ho detto prima No Hai detto che l'hanno picchiato E poi invece A quanto pare L'unico che ha picchiato È in 14enne Che non conosci Fratello dell'amico tuo Eh Sì Così è andato Vabbè Detto questo Io vi ringrazio A tutti Ovviamente Rubino Palle Dave Grazie Pietro Grazie Paghi Ci vediamo alle 21 Per Creepy Cerbero Ciao ragazzi Grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie davvero Grazie Se vediamo domenica Se vediamo domenica Buongiorno Buongiorno Ciao 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 Che squali? Stati arrivà! E' l'ho! Roshan! E' l'ho!